quindi subito che va a Natale visto che è passato un po' il tempo facciamo un escursus veloce su quello che aveva visto e andiamo avanti a terminare quindi questa prima parte che vediamo l'avevamo già vista dalla prima di morire quindi andare a riguardare gli appunti e ci manca qualcosa allora, quando avevamo visto per chi non c'era ma da qua a novembre va a questa parte allora a non c'era parlare il discorso che ogni struttura in acciaio è composta da materie di elementi ed è fondamentale il modo in cui noi andiamo a collegare questi elementi perché? perché noi andiamo a controllare i elementi in acciaio in dimensioni unicare e tutto quello che noi otteniamo come schema strutturale come funzionamento statico è legato al modo in cui noi andiamo a collegare questi elementi secondo normativa tecnica esistono diversi elementi di collegamento principali che sono questi elencati qua sotto i bulloni normali e i bulloni ad attrito che sono più utilizzati per le strutture metalliche le salvatore e i chiodi che vengono citati ma non vengono più utilizzati per le strutture nuove ma vengono citati per riprovate le strutture esistenti quanti punti sono fatti magari in struttura metallica hanno visto vado un po' rapida qui perché comunque hanno già visto questa parte però per me ne facciamo un ripasso globale allora hanno visto che abbiamo avuto diversi tipologie di non quelle correnti e quelle di forza quelle correnti sono quelle che noi utilizziamo per creare profili che non esistono quindi ad esempio ci serve una colonna o una trave che abbia un momento di inerzia molto elevato ce la costruiamo proprio con i piatti e ce la facciamo con due e con le dimensioni le unioni di forza sono invece quelle che abbiamo tra i vari elementi strutturali vedete queste immagini che avete già visto con il professor Bontempi per studiare le zone B e le zone BD le zone B di una struttura sono quelle di Bernoulli diciamo sono quelle in cui vale la teoria della trave di De Saint-Bernand così come l'avete studiata la scienza delle costruzioni dove quindi possiamo applicare tutte le formulazioni per il calcolo di tensione e le priorizzazioni così come le avete studiate però ci sono molte zone nella struttura in cui queste formulazioni chiuse non si possono utilizzare sono quelle che vengono chiamate regioni B di diffusione le unioni fanno parte proprio di questa tipologia quindi noi andremo a trovare delle fazioni che sono state ottenute ad esempio successivamente a una campagna di sperimentazione quindi delle formule in cui a volte è anche difficile vedere il riscontro fisico per esempio dei coefficienti moltiplicativi che vengono utilizzati questo perché non è possibile applicare le formulazioni quindi sono stati fatti ad esempio molti esperimenti che sono stati ricavati a posteriori le formule per questa motivazione noi facciamo tutte delle ipotesi in partenza che ci dicono la diastra rigida insomma facciamo tutta una serie di ipotesi alla base del calcolo queste ipotesi servono per fare in modo che le formule che poi affichiamo siano effettivamente le piere e questi esperimenti sono stati fatti in un range di tipologia di unione allora noi come le classifichiamo le unioni le classifichiamo secondo il sistema di collegamento utilizzato quindi fondamentalmente pulonate e saltate quelle che progettiamo o attraverso il tipo di sollecitazione che devono trasmettere quindi abbiamo delle sollecitazioni che trasmettono taglio e quindi saranno delle cerniere delle sollecitazioni che trasmettono sforzo normale taglio e saranno sempre delle cerniere oppure ci sono delle unioni che sono in grado di trasmettere anche il momento fettente e quindi funzioneranno se realizzate a terra come degli incastri se realizzate in altre zone della struttura come il quale tipo di sollecitazione allora su questi ci andiamo dopo perché tanto li vediamo nel dettaglio dopo e vediamo un attimo le due grosse tipologie di unioni allora sono le unioni bullonate e le unioni saldate vediamo le unioni bullonate qual è il vantaggio sono molto veloci da realizzare si montano e si smontano facilmente e poi possono essere possono anche permettere alla struttura una certa flessibilità quindi possiamo estenderla farla più piccola facilmente quali sono gli vantaggi che ovviamente dobbiamo realizzare dei fori questi fori andranno a indebolire le sezioni resistenti delle strutture e poi un'altra cosa che abbiamo che intorno ai fori ovviamente avremo delle distribuzioni di tensioni vedete qua dei disegni il primo disegno rappresenta la reale distribuzione delle tensioni intorno a un foro e delle uniche abbiamo dei picchi proprio intorno al foro noi daremo in considerazione queste tensioni però in realtà con una schematizzazione semplificata per quella che vi vedete a destra loro sono gli elementi principi delle unioni bullonate ovviamente i bulloni allora quali sono i dati che a noi servono per progettare l'unione del bullone fondamentalmente i due dati importanti è il diametro e poi relativamente al diametro abbiamo due aree una è l'area luminale e una è l'area resistente l'area luminale è quella che andiamo a calcolare sulla sezione non indebolita dalla filettatura l'area resistente è quella che considera la sezione dettata alcune verifiche delle unioni bullonate prevedono utilizzare l'area luminale e altre l'area resistente quindi dare un occhio di riguardo alla formula perché vedete che comunque la differenza è tanta tra i valori allora queste sono le resistenze dei vari bulloni allora noi abbiamo per la classe della vite cioè la parte sicuramente della vite a queste cinque classi queste che vediamo nella prima colonna 4 e 6 5 e 6 6 e 8 8 e 8 e 10 e 9 che significano questi dati se noi andiamo a moltiplicare il primo per il secondo numero otteniamo una resistenza di snellamento in kg in mq accanto ce l'avete portata in 2 mq se andiamo a moltiplicare il primo numero per 100 andiamo a ottenere una resistenza di rottura quindi la classe ci dà già delle indicazioni sulla resistenza di snellamento e sulla resistenza di rottura e poi le altre sono resistenze a taglia a sforzo normale allora questa è diciamo la prima tabella importante che deve capire per la normativa abbiamo detto che appunto tutta la progettazione dell'unione è in parte della sua sperimentazione quindi noi dobbiamo entrare all'interno di un certo range per essere sicuri che la nostra unione possa essere progettata in questo modo inoltre tutto per essere sicuri che non si vede di determinati meccanismi di rottura la prima cosa che ci impone la normativa quando progetto un'unione e devo stare attento a dove faccio i fori allora questa è proprio l'immagine che voi avevate sulla normativa la prima vi fa vedere una piastra e dei fori e vi dice attenzione se la freccia che voi vedete è l'azione agente voi avete delle distanze limite da osservare nella direzione ortoconale alla forza nella direzione parallela alla forza e questi sono i valori che ci daranno maniera di minimi e di massimi quindi non possono neanche essere troppo orientati i bulloni torneremo con questo concetto dopo intanto voi guardate e ricordatevi che ci sarà una stanza minima e massima e come potete vedere nella direzione ortoconale possono essere anche più vicini i bulloni nella direzione parallela possono essere più contanti memorizzare questa informazione e poi ci torniamo dopo allora ora questo è importante come possono essere sollecitate le unioni e quindi i bulloni il bullone può essere sollecitato a taglio il bullone può essere sollecitato a trazione il bullone può essere sollecitato a trazione e taglio il bullone non è mai 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 sollecitato a momento ok? non mi dite che fate le verifiche a momento dei bulloni perché fanno accadolare a velle allora perché non è sollecitato a momento? perché unione bullonata trasmette il momento ma scomponendo il momento nelle sue risultanti quindi quindi un momento sarà scomposto in una coppia e il bullone porterà in mente la coppia dopo vediamo gli esempi dunque questa è la cosa fondamentale sono bulloni a taglio o a trazione? punto dicevamo che appunto le formule della bullonatura sono basate su formule empiriche quindi quali sono le ipotesi che noi facciamo per lo studio delle unioni? la prima è che supponiamo la maniera infinitamente rigida ovviamente è la schematizzazione ma infinitamente rigida significa che tutti i miei bulloni si muovono insieme hanno lo stesso comportamento tutto di unità trascuriamo la punta di inflessione dei bulloni e poi trascuriamo la concentrazione delle tensioni per capire quali sono i funzionamenti delle unioni andiamo a considerare quello che si chiama un collegamento elementare cioè quello con un bullone solo ora vediamo tutte le modalità in cui si può rompere questo union a taglio ripeto che su tutte le cose che avevamo già visto quindi se vi andate a vedere gli appunti o la lezione ne trovate tracciate anche più con calma la cosa importante che dobbiamo vedere allora questa è un'unione specificata a taglio si intende che è il gambo del bullone che è sottoposto a taglio quindi l'azione è ortogonale al gambo del bullone ok e quindi voi vedete quelli supponiamo che sono gli elementi di lamiera collegati noi avremo un'azione di taglio che insiste sugli elementi e che viene trasferita sul gambo del bullone questo è il funzionamento meccanico che problemi posso avere con l'unione a taglio posso avere queste quattro tipologie di dottura quattro tipologie di dottura significa quando progetto l'unione a taglio devo fare quattro verifiche devo controllare queste quattro cose devo controllare che la mia unione sia conforme alla normativa sotto questi quattro aspetti quindi si può rompere la lamiera si può rompere il bullone posso avere il ripollamento della lamiera e si può rompere la contrazione della lamiera cosa significa? la prima modalità è lo stratto della lamiera lo vedete in questa immagine è il problema che io ho quando ho realizzato il foro troppo vicino al bordo e quindi si generano le linee di tensione nella direzione che vedete nella immagine e ho la dottura della lamiera le tensioni che mi provocano la dottura sono tensioni tangenziali spalmate sulla superficie di dottura quindi vediamo una tau calcolata come l'azione F che è poi dal blocco la puronatura diviso quella superficie su cui va a spalmarsi l'azione qui manca M M è la proiezione del segmento di d' in orizzontale questa è da qua da qua e S è ovviamente lo spessore poi potrei avere problemi per il bullone quindi si potrebbe rompere il bullone la riduzione del banco anche in questo caso è un'azione tangenziale sulla sezione del bullone e quindi ho la forza diviso la sezione perché la forza è a metà perché se collego due elementi la mia forza si è già divisa a metà con la sezione poi posso avere un problema legato al fatto che il bullone ara nella lamiera quindi vediamo un problema di ripollamento il problema di ripollamento è legato alle concentrazioni di tensioni sul foro e quindi vedete che abbiamo in se va tutto bene le espressioni sul foro su un campo elastico che è il primo diagramma diciamo triangolare pian piano se arriviamo al campo elastico abbiamo il secondo diagramma e noi andiamo a fare i calcoli considerando un valore medio di questo valore medio calcolato con la formula vedete lì quindi dividiamo l'azione per l'area del foro quindi questo D è del foro non è del bullone e l'ultimo è la trazione quindi abbiamo scelto una lamiera proprio poco spessa fondamentalmente e quindi abbiamo queste concentrazioni di tensioni che hanno visto prima sul bordo del foro che potrebbero andare a far spizzare la mia lamiera quindi questo è un problema di resistenza della sezione che viene solicitata in questo modo quindi la sezione resistente se io vado a tagliare la mia lamiera è quella che mi rimane da una parte e dall'altra quindi parliamo di una sigma in questo caso perché abbiamo la lamiera tagliata a metà e vediamo l'azione un po' romana la sezione quindi noi abbiamo visto la mia unione a taglio si può rompere in quattro modi quando io la verifico faccio quattro verifiche questo è il concetto prima verifica che faccio a strappo la lamiera bene la normativa mi dice che se io ho usato quel disegno che abbiamo visto prima quello con la piastra e ho stabilito interassi e distanze usando poi la lamiera e le dimensioni la verifica strappo è automaticamente soddisfatta cioè in parole povere il mio foro non è troppo vicino al bordo o non è troppo vicino a malto foro questo è un parole molto povere poi devo verificare che non si rompa il bullone quindi che devo fare devo prendere la mia risultante e dividerla per l'aria e devo calcolare che sia minore della resistenza a tagliare il bullone vi segnare una cosa accanto a ogni verifica eccetera voi trovate tutti quanti i riferimenti della normativa apritevela e guardatevela cioè cercate cosa dice sono le unioni veramente per i concetti che includono totalmente poche pagine quindi imparate a ritrovarle sulla normativa perché magari una qualsiasi cosa come abbiamo detto a lezione un esempio nuovo che non avete visto potete trovare le informazioni importanti imparatele a leggere la normativa allora la terza verifica che devo fare è una verifica a rifollamento ora la verifica a rifollamento è data dalla mia risultante diviso la superficie sotto insiste che abbiamo detto è rifollamento interessa il foro e quindi è l'area su cui diciamo l'area su cui batte il bullone e questo è il mio foro e l'area su cui batte il bullone potrebbe non resistere e potrebbe allargarsi il foro questo è il fenomeno fisico la verifica non è così tanto intuitiva perché abbiamo un k e un alfa con equazione lunga questa purtroppo la studiamo appunto se non ricordate k e alfa non era ovviamente non vi interessa sappiate dove stanno le normanile se entra 4 2 citato allora quello che però è importante di questa verifica guardiamo insieme una cosa abbiamo k e alfa ok abbiamo gamma m2 che sarà un coefficiente dei materiali un coefficiente dell'unione che considera la verifica il foro snervamento abbiamo ftk questa verifica viene fatta con la resistenza a rottura ok è una delle poche quindi si suppone che il materiale superi lo snervamento è una verifica in campo plastico quindi è una delle pochissime verifiche che trovate sull'acciaio che usa la resistenza a rottura invece della resistenza snervamento quindi attenzione a questo discorso poi e l'ultima è una semplice verifica resistenza alla lamiera quindi noi prendiamo l'azione sezioniamo la lamiera la applichiamo e dividiamo per l'aria che è una segma azione per l'aria quindi le verifiche delle unioni in realtà sono semplici quello che avvolta con funzione spesso perché quando si va a svolgere un'unione ci sono tanti passi voi vi perdete tra i mille passi e in realtà la cosa su cui focalizzare fondamentale che vediamo dopo quando vediamo gli elementi strutturali io devo individuare chi sono gli elementi che devo collegare una evidente quali sono le sollecitazioni che devo trasmettere due sempre evidente meno evidente come si trasmettono queste sollecitazioni negli elementi strutturali ed è quello che prendiamo la seconda parte della lezione a quel punto quando io so su poi bullone arriva taglia arriva l'azione prendo la mia normativa il mio coderno e faccio le verifiche quindi a livello concettuale la parte dell'ingegnere subentra al momento in cui ho le sollecitazioni e devo capire come farle trasmettere all'unione tutto il resto sono verifiche da normativa appunto abbiamo detto questo è nel caso che l'unione sia soggetta a trazione e a taglio se l'unione è soggetta a trazione quale sarà il problema sarà la la possibilità di avere questo effetto leva che dice nella seconda figura quindi noi abbiamo il bullone che viene tirato insieme agli elementi che collegano che sono collegati e quindi abbiamo da verificare effettivamente la resistenza di questo bullone che è la rammiera adesso collegato e quindi andiamo visto che ho una verifica a sforzo normale avrò lo sforzo normale diviso l'aria per tenere in conto di questo effetto leva mi viene dato dalla normativa un coefficiente pari 1 a 25 che va ad aumentare il sforzo normale quindi è una verifica sforzo normale modificata potremmo chiamarla non c'è altro da fare su una attrazione nel caso di avessi uno stesso bullone che è sollecitato a trazione e a taglio nello stesso momento devo considerare l'interazione tra i due come avete fatto per il pilastro di cemento armato dobbiamo costruire una sorta di dominio questo alla fine altro non è un dominio cioè dobbiamo controllare l'interazione tra lo sforzo normale e lo sforzo dovuto fare azioni di taglio sia meno di uno chi sono questi elementi ricordiamoci che tutte le volte che c'è ed è qualcosa di progetto quindi è legato alle azioni tutte le volte che nel corno troviamo RD è qualcosa di resistente quindi noi per ogni tipo di sollecitazione F2 F2 sopra e sotto taglio facciamo il rapporto tra il sollecitante resistente sforzo normale e il sollecitante resistente questo è il discorso e sotto la formula della normativa di come si calcolano i resistenti però è solo un rapporto tra i due adesso vediamo una parte un pochino più importante a livello concettuale perché le verifiche a memoria le studiate tutti poi quando deve andare ad applicare perché per fare l'unione invece c'è un pochino di problemi allora abbiamo visto tutto riferito al bullone elementare ma ovviamente nelle unioni vere abbiamo più bulloni quello che è difficile capire come questo per esempio questa è una piastra uno sforzo di taglio per qualche motivo esterno una piastra come si distribuiscono queste unioni queste sollecitazioni sulle varie unioni questa è la cosa difficile immaginiamo che questa è una piastra per qualche motivazione deve trasmettere questo sforzo di taglio allora la prima cosa importante ci ricordiamo le ipotesi ci ricordiamo che la maniera l'avamo supposta infinitamente rigida e l'avamo detto i bulloni perfettamente elastici questa ipotesi che sembra vabbè un'ipotesi che mi devo imparare no? c'ha un mondo di erro perché fa in modo che se io ho una sollecitazione di taglio globale su una struttura cioè la colonna ha la travest ha un taglio agli estremità di 50 perché da arrivare alla colonna io potrei smettere 50 tra colonna e tra trate e colonna io so che sono unione bullonata per l'ipotesi di la mia era finamente rigida il taglio si ripartisce in modo uguale da tutti i bulloni quindi questa è solo la ipotesi che io faccio per tutti i calcoli ma che vale solo perché c'è la mia era finamente rigida stessa cosa vale con lo strozzo normale quindi io ipotizzo che si divida in modo uguale e poi l'altro discorso sappiamo che lo spostamento può essere costante e proporzionale alla distanza del pari centro facciamo questo esempio allora questa è la nostra solitazione che deve essere trasmessa possiamo vederla se magari è più facile con il fatto dei bulloni e magari è più banale e quindi è meglio questa è la mia piastra di collegamento io so che questo ad esempio è in sezione uno dei collegamenti appunto tra la trave e la colonna ed è soggetta a un taglio eccentrico prima cosa io calcolo tutto sugli assi quadricentrici quindi mi porto le sollecitazioni mi accento questa è la solicitazione mi si è generato un momento docente e io dico adesso ma questi bulloni io devo fare le quattro verifiche quindi la mia risultante diviso la rete del bullone la mia risultante diviso la sezione la mia risultante diviso quest'altro ok qual è la mia risultante cioè come tramuto la sollecitazione dell'elemento strutturale alla sollecitazione sul bullone quindi prima cosa consiglio le geometriche dell'unione qui abbiamo ad esempio queste sollecitazioni applicate a questo asse come si prendono in bullone queste sollecitazioni allora io ho uno sforzo di taglio per un momento torcente ok allora abbiamo detto lo sforzo di taglio si ripartisce in modo uguale sui bulloni quindi prima cosa io ho la piastra così posiziono i fori dei bulloni come li posiziono prendo la mia tabella della normativa e controllo che le distanze dei bordi e l'interesse coincidano quindi ho fatto questa cosa e ho messo 4 bulloni intanto quanti bulloni metto in generale per ogni unione più di uno perché se ho un bullone solo si rompe l'unione non è robusta generalmente la geometria dell'elemento ci aiuta ora vediamo dei casi specifici vi do dei consigli perché ovviamente voi non avete un'esperienza pregressa che mi vuoi impare però generalmente per quanto riguarda le unioni ciò è più bello a vedere funziona bene quindi guardate anche se c'è qualcosa che infilato nel vostro elemento strutturale è brutto sta funzionando male avviare la certezza allora noi abbiamo posizionato questi 4 elementi rispettando le distanze della normativa ora rivolgiamo anche su questo prima cosa i miei bulloni saranno sicuramente soggetti a taglio perché questa azione cammina ortodonialmente ai bulloni che adesso non è la lavagna ok quindi prima cosa ti dico la mia azione secondo il numero dei bulloni e quindi io avrò un per ogni bullone un abuso un bullone che sarà dato adattare o dare il numero dei bulloni e quindi questa sarà un'opera e a dir il restato nessuno ha problemi il problema generalmente nasce dal momento allora questo è un momento nel piano della piastra quello che abbiamo detto il bullone non porta al momento ci hanno detto a lezione non mettere il momento sui bulloni perché perché ogni momento può essere scomposto nei suoi risultati il momento è una coppia in questo caso sappiamo che questo momento è trasmettito a questi 4 elementi quindi semplicemente andiamo a scomporre i momenti ricordate le cose fatte anni fa quindi ci prendiamo il centro dell'unione e andiamo a riprodurre il nostro momento ok la combinazione di queste 4 azioni sarà equivalente a questo momento torcente ora voi dite ma io non mi dico come si fa in 4 eccetera a parte la subitaggia non datevi a rivedere la maggior parte delle vostre unioni a momento torcente ne avranno due quindi saranno una coppia di quello che sapete fare quindi in realtà su ogni bullone io avrò un'azione una risultante diversa quindi i miei bulloni non saranno tutti sollecitati in modo uguale assolutamente no vediamo questi hanno la risultante disegnata per bene vediamo che il 2 e il 2 u6 hanno una risultante più grande e questo è corretto perché il momento si distribuisce a seconda della direzione mi darà un risultante maggiore di nere quindi io prendo il mio momento e lo distribuisco sul bullone secondo i risultanti dopodiché le verifiche le faccio su un bullone usando il valore più grande quindi prenderò quello il 2 u6 quello che sia per sicuro nei vostri casi è ancora più sempre questo è quello generico vi faccio notare anche un'altra cosa torniamo un attimo a questa immagine ok qui vedete interasse e distanze dei fuori calcolati con l'azione e noi abbiamo le distanze ortogonali alle azioni e parallele alle azioni nel nostro caso che la mia risultante magari va in questa mia azione io dico come vi calcolo l'interasse e le distanze perché la mia risultante del bullone non è né ortogonale non è parallela allora che cosa faccio prendo tra i valori della tabella il più calcolativo quindi se mi dice che il minimo deve essere 1,2 o 2,2 per esempio con gli interassi posso scegliere 2,2 e 2,4 una ortogonale alla forza una parallela alla forza visto che la mia azione ha una componente ortogonale e una componente parallela io prendo il più calcolativo con le due direzioni quindi è questo il modo di leggere questa parte quindi cautelativamente se il minimo è 2,4 2,2 io prendo 2,2 e sarò sicura che va bene per tutto quanto lo sviluppo di unione questo è giusto perché è una cosa che ha creato il dubbio ora vediamo un altro esempio quindi abbiamo visto se l'unione è sollecitata da taglio quindi io trasmetto del taglio tra gli elementi prima cosa prima cosa dobbiamo considerare che si ripartisce in modo uguale tra i bulloni e dopo di che dobbiamo considerare che il momento si ripartisce questo momento non è un momento che si trasmettevano i due elementi strutturali attenzione a un momento dopo il fatto che l'asse centrale della bullonatura non coincide con l'asse centrale della trasmissione dello sforzo quindi a volte noi abbiamo dei momenti trasmessi dalla bullonatura che sono dei momenti fittizi sono dei momenti dovuti al fatto che non sono allineati i vari centri degli elementi solamente vediamo qual è il caso di cui i bulloni non sono oggetti a trazione il caso principale è questo allora questa unione è la cosiddetta unione tangiana in cui cosa abbiamo abbiamo una piastra su questa piastra è collegata la trave e poi la piastra è collegata con l'altro elemento che può essere in questo caso un'altra piastra oppure può essere la colonna quindi in questa unione senza sapere niente io mi immagino che il problema è il discorso che questi bulloni questi elementi tendono a separarsi questa possiamo immaginare che sia la mezzeria di una trave perché vedete da cosa lo dico rispetto alla mezzeria di una trave vedo che ci sono più bulloni nella parte inferiore senza sapere niente questa non è perché se io mi vedo un elemento con due bulloni sotto mi immagino che quella sia la zona in cui tende ad aprirsi se io invece ho la colonna di un telaio e una trave che arriva su quella colonna il movimento che io avrò in quell'angolo nel mio momento sarà tendrale più superiori quindi il movimento che mi aspetto è questo e quindi probabilmente i bulloni saranno che sia un contrario mi aspetto perché perché i bulloni a compressione servono a tenere di un salvinone i bulloni a trazione sono quelli che effettivamente trasmettono le sollecitazioni quindi occhio anche se voi fate solo un disegno senza calcolarlo occhio perché queste sono delle considerazioni fondamentali allora quanto vale la reazione come abbiamo detto lo sforzo di taglio io prendo lo sforzo di taglio lo divido per il numero di elementi e considero se c'è un disassamento tra dove è applicato il taglio e dove è variamento della pronunatura per la reazione devo considerare che se l'unione è fatta in modo semplice e simmetrica io prendo lo sforzo normale e lo divido per il numero di elementi se abbiamo elementi a diversa distanza ovviamente questi elementi saranno sollecitati in modo differente quindi ci sarà uno sforzo normale maggiore o minore a seconda della distanza dall'asse e qui c'è una formula che è questa è semplicemente questa è la distanza dall'asse paricentrico per ogni bullone devo andare a sommare la distanza di cui il bullone dall'asse la quadra poi ci stanno sulla parte degli esercizi svolte degli esempi numerici per quanto riguarda gli esempi numerici ve lo ripeterò anche dopo ora intanto lo dico allora la parte di unioni svolte stava su una parte del libro Carocci quindi volendo tecnopostruzioni semplicami che non è stato pubblicato quindi voi trovate sul testo il testo dell'esercizio lo trovate sul volume sotto trovate il computerino accanto quel computerino significa che lo svolgimento dell'esercizio è su internet vi registrate al sito Carocci gratuito vi scaricate il svolgimento quindi così funziona sta scritto nelle modicine all'inizio del libro ma al 90 ora il centro lo legge quindi dove vedete un computerino esiste uno svolgimento online purtroppo impaginato tutto però quello abbiamo e svolti con la normativa precedente perché sono stati altri questi esercizi nel momento di transizione in cui c'è una norma del 2005 i procedimenti sono identici cambiano solo i valori di esistenza che erano un pochino differenti quindi le formule sono quelle cambiano se non vi ritrovate con i numeri sono un po' differenti dei valori che non vi lo trovate allora vediamo questa parte qui sono andata un po' più rapida perché l'abbiamo vista interamente quindi abbiamo altro ripasso perché si parlano di versi di sbaglio linea che non abbiate pensato a me in questi modi allora invece le ognomi saldate la salvatura è l'unione di pensi medali e di soltuazione di onore con o senza l'apporto di altro materiale qual è il vantaggio della salvatura prima cosa da collegamenti di unice cioè con la salvatura si trasmettono un taglio un momento si trasmettono tutte le solicitazioni più facilmente sono collegamenti comuni non si indeboliscono le sezioni perché non dobbiamo fare dei codici e sono anche più snappi per il macchinato con l'apporto con l'apporto con l'apporto con la salvatura molto di pulito quindi i vantaggi sono tanti soprattutto nel caso che debba realizzare dei nodi che trasmettano un momento in camostro di grado per esempio lo svantaggio principale e per cui non sono così diffuse nella realizzazione delle costruzioni in acciaio è che la buona riuscita dipende dall'operario questo operario deve essere qualificato avere un patentino specifico e oltretutto se l'unione viene fatta direttamente in cantiere dopo deve essere verificata con dei metodi tipo radiografia o cose del genere quindi quando ad esempio ho progetto una salvatura me la faccio fare sempre in officina e mi faccio mandare e penso che ho già salutato capite bene che però non è così semplice farsi mandare su un teladio intero quindi poi sono in trasporto quindi le salvature a volte incontrano un po' di esistenza perché il direttore dei lavori che le accetta deve avere il copia del patentino della persona che l'ha fatta certezza che sia stata fatta in un'officina in un certo modo problemi di trasporto molto spesso provano a proporle ai progettisti in opera però attenzione perché delle unioni fatte in opera c'è la polvere non siamo nelle condizioni leali eccetera quando si vanno a fare le verifiche per i cantieri più grandi che magari si vanno a fare moltissime non superano le verifiche quindi poi vanno rifatte eccetera eccetera quindi se vi capita sempre in officina e fatelo andare allora vabbè le procedure non siamo nel dettaglio sono a pressione e a fusione sono quelle che vengono fatte per le strutture composte accialli o garcestruzzo quindi sono questi piori che vengono sparati da virgolette e poi viene fatto l'oggetto di garcestruzzo quelle che consideriamo noi sono quelle a fusione questo è il procedimento sul comune che è quella d'arco con letto di vestiti e qui vedete fondamentalmente che si ha una bacchetta di materiale che piano piano si scioglie di grasse la differenza di potenziali tra i due elementi questo è voglio vedere tutta quanta la procedura e spiegare nel dettaglio gli aspetti importanti sono che noi abbiamo due elementi accostati un elemento esterno che porta del materiale di saldatura simile a quello degli elementi e questo piano piano viene fatto sciogliere possiamo avere un materiale esterno o possiamo far sciogliere anche il bordo dell'elemento e i due elementi diventano solidari l'uno con l'altro questa cosa è importante esistono tantissime procedure automatiche semi-automatiche immaginate che se dobbiamo fare saldature di elementi per infrastrutture abbiamo delle procedure più possibili automatizzate quindi ci sono questi elettroni che camminano quasi automaticamente e danno con altre saldature a noi interessa questo quali sono le cose che dobbiamo controllare quando non fa una saldatura questi sono i possibili difetti allora potremmo avere la mancanza di penetrazione quindi abbiamo il cordone che non collega tutta la sezione e quindi quando si è sbagliato l'operatore non erano stati preparati magari degli elementi a collegare abbiamo delle inclusioni solide abbiamo delle soffiature quindi viene fatto il bagno per la fusione rimangono delle bolle dentro e soprattutto abbiamo queste due finiture queste sono visibili a occhio nuto quando fate una saldatura le cricche a freddo e le cricche a caldo le cricche a freddo sono dei materiali di base e quindi le abbiamo quando probabilmente si è raffreddato troppo rapidamente e le cricche a caldo sono nella zona fusa e quindi è possibile che abbiamo usato un bagno di fusione che non era puro queste sono tutte cose che quando vi consegnano anche un elemento saldato un occhio a dato perché poi voi prendete l'elemento e attestate che è al posto se invece guardando trovate tutta una serie di cricche dovete sicuramente farlo presente a chi ve l'ha mandato allora adesso vediamo come le classifichiamo per calcolarle abbiamo due tipologie raggiunti quelli che sono a completa penetrazione e quelli che sono a collo metangolo si vede dal disegno la differenza a completa penetrazione io smusso gli elementi e faccio il bagno di saldatura in mezzo quindi fondamentalmente l'elemento è effettivamente un pezzo unico diventa nei giunti a cordone d'angolo gli elementi sono appostati e io faccio dei cordoni di collegamento allora quando io faccio un giunto a completa penetrazione mi fanno unione in officina io gli dico quanto deve essere questo giunto eccetera e per me il pezzo dopo è un pezzo unito cioè non devo fare altre verifiche sui cordoni eccetera se io ordino un profilo che non esisteva sul contruato perché mi serve uno che ha la forma dell'HE alto mille e quattro voglio un profilo addosito come viene fatto molto spesso per il pezzo della ponte io ordino questo profilo gli smusso i pezzi e tutto quanto una volta che questo profilo arriva per me è una grave a proprio t con quel momento di inerzia con quel doppio eccetera quindi diventano pezzi monolitici li verifico come pezzi monolitici cioè non verifico l'anima e l'anima diventano un pezzo solo invece quelli tra gli elementi strutturali quelli che calcoliamo noi per collegare gli elementi sono giunti a cordone d'angolo e i pezzi infatti rimangono che solo non vengono controllati e qual è il problema di questi cordoni che il punto di cordone è proprio un punto di scontillità di tensioni perché immaginate io ho questi due pezzi accostati che tendono a muoversi e li collego con il cordone quindi ovviamente il cordone sarà mazzola che ha la concentrazione di tensioni allora veniamo alla parte simpatica come si calcolano questi cordoni cosa che voi non amate articola domanda di più ma questo esatto non è niente di difficile allora qual è il punto di tema abbiamo usato una parola nella slide precedente discontinuità ok discontinuità nel flusso delle tensioni significa non abbiamo una teoria in forma chiusa cioè non abbiamo potuto condurre il flusso delle tensioni a una teoria nota quindi dobbiamo utilizzare come per tutte le tipologie riunioni delle formule empiriche dei valori di sperimentazioni allora cosa vediamo con questi disegni questi diagrammi dell'esigma sono quelli che rappresentano la reale distribuzione dei discorsi piano piano del materiale si classifica questi diagrammi a punta diciamo diventano diagrammi rettangolari significa le tensioni vengono a essere più uniformi fondamentalmente prescindere da quello effettivamente noi quando dimensioniamo una saldatura che cosa dobbiamo fare non è tutto identificare gli elementi che vogliamo collegare quella della parte semplice poi dobbiamo dire dove facciamo la saldatura e le dimensioni le dimensioni della saldatura che significa non parliamo solo di dimensioni in inglesa cioè devo salvare questa lavagna se vogliamo da quella qui o da qui a qui la cosa fondamentale dei miei modi è dimensionare la cosiddetta altezza di gola cos'è l'altezza di gola noi diamo questo disegno io lo rifaccio qui così ragioniamo su tutto questo allora questo è in grandito immaginate qui ci sta una piastra qua c'è un'altra piastra questo è in grandito la sezione della saldatura quindi questa poi continua in questa direzione allora quando noi abbiamo una saldatura quale che sia la tua forma la parte resistente la andiamo a individuare in questo modo quindi prendiamo il triangolo allora se questa è guarda sono le stesse lettere a 1 e a 1 andiamo a prendere un triangolo con gli stessi lati quindi andiamo a tagliare questo e andiamo a considerare l'altezza questa indicata con A è la cosiddetta altezza di Bola ed è rappresenta la sezione resistente della mia saldatura quindi è come se noi abbiamo una saldatura con questa forma immaginate la tridimensionale tutta questa parte di materiale qua fondamentalmente non serve a niente che non porta non è giunta alla portanza dell'unione questo è importante anche per il fatto che se ci stanno facendo un'unione per farci contenti a noi non interessa perché abbiamo detto il triangolo quindi qua io tiro e la mia sezione di Bola che se a me mi hanno messo tutto con i materiali in più rimane questa quindi attenzione se per farci contenti vediamo che si tratta con lunghezza non serve a niente l'importante è la stessa dimensione in altezza e in larghezza allora questa altezza di Bola va a individuare la sezione resistente quindi noi immaginiamo che il vero cordone visto tridimensionalmente avrebbe una pancia qua sotto diciamo vediamo questa parte che non è resistente analizziamo la parte resistente del cordone e noi diciamo che la sezione su cui agiscono le tensioni è la sezione di Bola questa è indicata qua ok la sezione di Bola come faccio a individuarla è la sezione che io trovo considerando un triangolo di Bola più uguali tiro e considero l'altezza praticamente allora su questa sezione di Bola che sollecitazioni si possono trasmettere tutte perché la mia saldatura abbiamo detto che è proprio quella che funziona bene quando ho per esempio i miei libri quindi ho trasmissione di taglio momento quindi sulla mia sezione di Bola arriveranno tensioni di tutti i bidi in particolare queste sono quelle che andiamo a considerare allora una tensione ortogonale alla sezione di Bola questa chiamata stigma ortogonale e poi abbiamo delle lezioni tangenziali una in questa direzione e una nell'altra direzione quindi una lungo la lunghezza del cordone e una lungo la spessa che si chiamano tau parallela e tau perpendicolare ok queste sono quelle che noi ci dobbiamo ricordare quindi dobbiamo immaginare che la mia sezione può essere sollecitata in questi tre modi può essere soggetta a sforzo normale o a sforzi tangenziali che agiscono nelle due lezioni in questa e in questa secondo le lezioni in cui agiscono tau parallela a tau stoconale in questi lezioni che devo ricordare ora capite bene che se io mi devo fare il calcolo del cordone in una sezione inclinata non diventa più un calcolo ingegneristico semplice diventa una questione di giuglia descrittiva quindi quello che è stato fatto è stato detto ok per fare le calcolazioni potremmo considerare la sezione di gola ribaltata su uno dei lati e quindi io prendo questa sezione la ribalto su uno dei lati su uno dei lati significa che visto che è una convenzione che io utilizzo per fare i calcoli la posso ribaltare sul lato che mi è più comodo per fare il calcolo quindi la posso ribaltare di qua ma la posso ribaltare anche di qua ok quando io studio le tensioni sulla sezione ribaltata sono sempre le stesse tipologie di tensioni noi ne abbiamo una ortogonale alla sezione parallela in questa dire parallela con la lunghezza tangenziale ortogonale con la lunghezza sono le stesse le tipologie di tensioni che cambiano nome quindi abbiamo per diversificarle le chiamiamo con non con la lettera quindi abbiamo n ortogonale t ortogonale e t parallelo questo per capire la notazione quindi il discorso è io ripercorriamo il percorso logico io ho elementi da collegare in maniera ribida lo faccio tramite una saldatura una saldatura in questi casi è una saldatura con cordone il cordone collega gli elementi io devo dare alla persona che farà questa tattatura le dimensioni che sono la lunghezza del cordone ma soprattutto l'altezza di vola del cordone cosa identifica l'altezza di vola del cordone è un numero che mi dice quanto è grande la sezione resistente della saldatura quindi è fondamentalmente rappresentativa della dimensione della saldatura che effettivamente resiste ok ora tutto questo sembrava tanto semplice che cos'è questo disegno allora il problema qual è va bene tu mi dici l'altezza di vola è tutto quanto ma effettivamente io come lo faccio il calcolo per sapere se quell'altezza di vola che ho scelto va bene allora fondamentalmente hanno cominciato a fare una serie di prove e hanno costruito i dominini di resistenza del cordone di saldatura ok quindi che cosa vedete in questo disegno provando a vedere la costruzione insieme che cosa vedete intanto gli assi è una proiezione piana ovviamente ha una terza dimensione in cui ci stanno sigma otomonale e tau parallelo ok quindi questi sono quelli di partenza se noi consideriamo una trazione di da sigma otomonale e sigma parallelo sono storti da più quindi se noi mettiamo gli assi sordomali giriamo la posizione di vola e questo triangolo girato è la posizione rappresenta questo triangolo ok intanto questa è sulla base quindi stiamo ragionando cosa fa vedere questo diagramma rappresenta dei domini di rottura noi stiamo rappresentando dei domini di rottura per la nostra sezione resistente della salvatura che significa che abbiamo detto che la salvatura può essere sottoposta a diverse tipologie di tensioni sigma otomonale tau parallele e tau otomonale quindi per verificare se effettivamente esistono le tensioni io dovrò avere un dominio perché queste possono ritirarsi insieme e controllare se la mia combinazione il mio punto rappresentativo delle tre stati tensionali sta dentro o fuori ad dominio questa è la politica quindi io ho tre stati di sollecitazione nello stesso momento uno due o tre possono essere anche una volta ho i miei numeri e ho bisogno di un dominio per controllare se il mio punto sta dentro o fuori ok per costruire questo dominio sono stati utilizzati risultati sperimentali negli anni e questi sono tanti domini che sono stati proposti vediamo a livello di idee quali sono allora il primo primo di tutti è un grandese che traccia un dominio a peroide che non c'è qua sopra dominio a peroide proposto una cosa di questo genere e lui ha preso gli esperimenti hanno rotto una serie di saldature e hanno visto che il dominio di resistenza aveva una forma di questo tipo bene sicuramente rispondente a verità però qual è il problema il problema è che è assolutamente difficile trovare un'equazione che lo rappresenta perché a noi se vogliamo costruire un dominio ci serve un dominio che abbia un'equazione semplice fondamentalmente quindi è stato scartato il dominio a peroide anche se rispondente a verità con un problema di calcolo a questo punto mi serve una cosa che si ha traducendo un'equazione qual è la forma che somiglia di più la forma che somiglia di più è un elissolide quindi vado a costruire un elissolide faccio un discorso del genere e dico mi perdo queste zone in cui la sezione sarebbe verificata però effettivamente posso andare ad un'equazione quindi posso andare dentro un'equazione e trovo un valore un elissolide quella grande per vedere più alta è l'elissolide in uso che succede proprio a queste elissolide se erano che scontrati da alcuni punti effettivamente non erano qualcosa in sicurezza e poi c'è anche il problema che l'elissolide si produisce in equazione però non è proprio che è semplicissima l'equazione quindi la fase successiva è stata va bene la forma vera è un perode vogliamo ridurre l'equazione prendiamo le elissolide perode effettivamente la cosa più semplice è una sfera quindi sono state proposte varie sfere come sono state proposte allora c'erano delle sfere che dicevano non sfrutto questa parte superiore delle elissolide praticamente e mi allargo un po' esternamente ok di tratta delle elissolide vedete per esempio la sfera più esterna che è la sfera dinna quindi delle norme tedesche in particolare ti dice io propongo una sfera per raggio pari a 0,70 rispondono gli americani e gli inglesi dicono no io non sono d'accordo perché con questa sfera raggio 0,70 ti dici che questi punti che in realtà sono poi delle elissolide vanno bene io voglio una sfera più caudilativa la propongo una sfera più piccola e quindi ci sono gli americani e gli inglesi che posono delle sfera piccole gli americani a raggio 0,61 che rimane pienamente esterno alle elissolide e gli inglesi con raggio 0,58 che come vedete da questo numero è proprio pari a quello delle elissolide al minore delle elissolide e dicono vogliamo fare un calcolo che sia copilativo allora prendiamo prendiamo una sfera il cui raggio è pari all'asse minore alle elissolide quindi sicuramente sotto sicurezza questo è il ragionamento quindi prendiamo una sfera interna alle elissolide quindi una sfera con raggio 0,58 ecco questo questo dovremmo usare quindi fondamentalmente io voglio stare in sicurezza e questi sono gli inglesi che hanno fatto gli italiani? gli italiani hanno deciso che la sfera era troppo difficile ovviamente è una partenza però intendo hanno successo una formulazione analitica che non fosse un tipo quadratico ok? quindi per il dare la formulazione di tipo quadratico hanno scelto dei piani che hanno tagliato questi domini che avevano di un quadro e gli altri e hanno scelto delle soluzioni che è la struttura del piano quindi fondamentalmente usano la stessa sfera morsa che significa sfera morsa noi abbiamo detto c'era l'elissolide con l'asse maggiore 0,70 FU e l'asse 0,58 alcuni hanno proposto di prendere tutta la sfera 0,80 altri hanno proposto di prendere tutta la sfera in sicurezza 0,58 gli italiani hanno detto prendiamo la sfera grande e tagliamo le zone che non sono in sicurezza fondamentalmente quindi la sfera morsa significa ho preso come dominio dell'esistenza la sfera più grande so che non era in sicurezza e quindi taglio 0,58 l'esistenza e questa è una presentazione grafica vi ho raccontato la storia perché vedere questo disegno da solo non si capisce niente quindi l'approccio proposto dalla normativa italiana prevede di prendere un dominio di rottura la cui forma è a sfera morsa la sfera di partenza ha il raggio coincidente all'asse maggiore delle lissolide proposto riso e vengono tagliati i piani considerando l'asse minore sempre di queste lissolide ok tutto chiaro quindi qual è il risultato in parole povere il diagramma che vedete sulla destra quindi riguardiamo un attimo bene questo diagramma noi abbiamo dominio di resistenza sfera grande vengono tagliati i punti non in sicurezza sopra e sotto quindi il mio dominio di resistenza ha questa forma cosa vediamo come struttura importante all'interno di questo dominio il triangolo rappresentativo della lezione della calcatura notate come sta messo in questo modo perché perché abbiamo messo gli assi praticamente io qui volessi considerare il mio quindi abbiamo il disegno ortogonale ok noi abbiamo girato dritto al sim ortogonale quindi siamo trovati il triangolo girato mi raccomando che vediamo curioso di tenere gli assi e il triangolo dritto non ha senso fisico poi noi abbiamo detto un altro concetto fondamentale quindi noi adesso abbiamo trovato il modo per fare le verifiche perché abbiamo capito che prese queste sollecitazioni se sono dentro a questa sfera non stavano però abbiamo fatto anche un'altra considerazione che studiare le versioni di questa sezione girata effettivamente era complicato quindi abbiamo la possibilità di ribaltare la sezione su uno dei due lati vedete qui che compaiono due nuovi assi questi due nuovi assi sono paralleli alla base del triangolo perché rappresentano gli assi della sezione di cola ribaltata ok quindi noi abbiamo fatto questo discorso questa è la sezione di cola nella direzione giusta quindi andiamo in questo modo noi andiamo a studiarla ribaltata in questo caso vedete che abbiamo il retino ortoconale e il t ortoconale quindi consideriamo tutto il discorso ribaltare però il dominio non si ribalta ok il dominio rimane lo stesso quindi che cosa ribalto ribalto geometricamente il modo che io calcolo le dimensioni del dominio quindi il mio dominio è la scala 070 tagliata 048 dominio io non so studiarle in maniera semplice nella giusta posizione giro le dimensioni e a quel punto mi calcolo la risultante del dominio e quindi 058 e 058 raggi di 2 e 070 rimane lo stesso perché arriva l'altro esterno ok quindi io ho parole utilizzando due formule da normativa tutto questo per dire che ho due formule da normativa che mi dicono che sono rappresentative del fatto che il mio stato di solucidazione è dentro questa sfera mozza considerando la sezione rimbaltata ok quindi vedo le mie tensioni che notate sono con le lettere non grepe e sono rimbaltate devono essere minore di questi due valori questi due valori rappresentano il raggio grande e il raggio piccolo rimbaltati tutto chiaro? quindi dietro a questa formula voi trovate tutta questa trattazione che abbiamo visto sulla normativa con una frase per le verifiche del saldatore si potrà considerare la sezione di gola rimbaltata e utilizzare questa formula questo ha questo mondo dietro ora a me non interessa ovviamente che voi imparate a memoria chissà che cosa come ve l'ho raccontato io è più che sufficiente quindi noi arriviamo alla sfera mozza partiamo da un peroido ottenuto con le sperimentazioni vogliamo una cosa traducibile in equazione diventa elissoide l'elissoide ha una quadratica preferiamo una sfera vengono proposte diverse sfere gli italiani prendono la sfera più grande e mozzano i lati considerando la sfera di piccola spagnola buonissima sezione vera abbiamo problemi a fare verifiche ribaltiamo ok ora viene quindi allora le formule sono queste poi ovviamente io non è che avrò sempre t ottoconale t parallelo e sigma a seconda dello stato di sollecitazione che ho la mia formula sarà in un modo o in un'altra ovviamente non potete imparare bene voi a questo perché questo significa se voi la guardate con attenzione che io rendo questa formula t ottoconale lo trovo rimane n ottoconale al quadrato più parallelo al quadrato c'è altro non è che questo non c'è niente di differente però appunto questi vediamo i versi stanno di sollecitazione che possiamo avere se decidiamo di ribaltare la tensione sul piano inferiore perché vi dico se decidiamo di ribaltare sul piano inferiore perché la stessa tensione se io la considero in questo piano ad esempio che ho uno spazio di danio in questa direzione su questo piano mi genera tau parallelo anzi prendiamo in quest'altro piano noi abbiamo due sezioni così collegate se noi abbiamo una forza agente in questa direzione io posso ribaltare in questo piano o nel piano ortoconale se io ribalto in questo piano la sezione è parallela alla direzione ho una tau parallela se per qualche convenienza decido di ribaltare sull'altro piano una che agisce così rispetto a questo piano è una simbola ortoconale concettualmente sono corrette entrambe se io considero questo piano una simbola ortoconale se io considero questo piano una tau parallela quindi è solo una convenzione di come le chiamiamo secondo il piano in cui le stiamo studiando ma il numero lo stesso che andrà ad agire su uno dei lati con una simbola ortoconale e su uno dei lati con una tau ortoconale quindi scegliete voi come ribaltarlo adesso vi danno gli esempi quindi se voi state ribaltando in un modo e vicino a voi state ribaltando in un altro vedete delle lettere differenti non vi copiate la vicenda perché state facendo il giusto entrambi allora io volevo farvi vedere questi esempi li potete guardare voi con calma ci sono sui dentro io quanto quello che dico è così non posso insegnare che sia da mio pro quello che io vi voglio focalizzare in realtà non è tanto F diviso F raccomi calcoliamo la cosa importante quando voi dovete andare a progettare una salvatura è capire chi si prende la solicitazione e quali sono le tensioni a cui è soggetta la salvatura quindi cosa intendo per questo allora vediamo questo primo esempio qui abbiamo la stessa tipologia di pezzi sono due pezzi due programmi al centro che una volta ho scelto di mettere il cordone laterale una volta ho scelto di mettere il cordone frontiale scelte entrambe lecite ovviamente è diverso il modo che saranno i soggetti i cordoni allora se io considero questo primo caso ho una forza di taglio e due cordoni messi nella direzione della forza di taglio quindi le tensioni che si andranno a generare saranno ovviamente parallele all'azione e saranno le tau parallele se noi vediamo dall'alto questo pezzo immaginiamo appicare solo questi due pezzi ok ed abbiamo ad esempio consideriamo che sono solamente due soggetti a una forza F posso scegliere io come dirvi dove mettere i cordoni quindi posso mettere tre cordoni uno in genere almeno simmetrici due primo caso scelgo di mettere i cordoni sui lati paralleli alla forza ok quindi prima cosa dimensiono geometricamente i cordoni in genere a livello di lunghezza faccio quanto entrano quindi metto i cordoni qua quindi allora una posibilità L sul cordone quindi immagino che metà cordone si prende un cordone si prende F mezzi e l'altro cordone si prende F mezzi poi devo andare a fare le verifiche e calcolarmi l'area del cordone quindi devo andare a capire effettivamente quanto vale queste situazioni sollecitanti allora io posso scegliere di fare due cose posso scegliere di la mia sezione resistente sarà questa così posso scegliere sul quale piano ribaltare la mia sezione per studiarlo una convenzione scegliere io ribaltisco posso scegliere di ribaltare sul piano della lavagna o sul piano di questo elemento ortogonale della lavagna ok scegliere per esempio di ribaltare sul piano della lavagna se io ribalto sul piano della lavagna questa forza che si distribuisce in questo cordone sarà sullo stesso piano del cordone quindi sarà una tau sarà in direzione del cordone quindi sarà una tau parallela chiaro bloccatemi se non è chiaro è meglio ora che il blocco io poi allora quindi la prima cosa che io devo capire è il tipo di sollicitazione allora vi segnalo che trovate anche se la sezione di gola è ribaltata molto spesso indicato con le lettere greche semplicemente perché nei vari passaggi tra una normativa e l'altra si è presa l'abitudine di chiamare con la lettera greca anche la sezione di gola ribaltata quindi se lo trovate non siete voi non avete capito ci sta un po' di confusione in mezzo alle normative io posso usare la lettera che abbiamo usato di ora così non vi crea più bene perché stiamo considerando quella ribaltata questa effettivamente quanto vale questa tensione tangenziale la tensione tangenziale varrà quanto lo sforzo di taglio spalmato sull'aria quindi se io considero un cordone avrò F e mezzi perché un cordone si prende F e mezzi quanto sarà l'aria l'aria sarà base dell'altezza quindi la lunghezza del cordone e l'altezza di gola ok mi sembra abbastanza semplice ora io so che questa tau parallela deve essere minore di 0,85 F il sino di aspetta scusate mi manda dietro scrivo qua quindi dicevamo vediamo tau parallelo che è il tau dall'azione F e mezzi spalmato sull'aria che è L per A e so che deve essere minore di 0,85 F se non dico dove esce questo 0,85 vedete che io ho 0,7 per un coefficiente delta la moltiplicazione di 2 fa 0,85 a questo punto io F e mezzi ce l'ho L ce l'ho F e i secondi ce l'ho inverto questa equazione e mi trovo all'altezza di gola questo è il dimensionamento di una salvatura quindi io io progettista ho i due pezzi da collegare e decido dove fare la salvatura una volta che io decido dove fare la salvatura devo capire qual è il tuo stato di sollecitazione scrivere le equazioni di verifica l'altezza di gola sarà l'unica incognita di me di quello fuori se io avessi scelto un'altra soluzione definiamo la stessa situazione però io preferivo andare a mettere la salvatura qua per dare gli spazi che incasso quello che sia avremo quindi una salvatura A lunga L faccio la stessa elettrica cosa allora io ho due eventi salvati soggetti a una forza F se io ho questa salvatura la mia sezione di gola sarà storta così posso scegliere di spalmarla su due piani diversi immaginiamo prima di spalmarla sul piano della lavagna quindi la sezione spalmarla di trattarla stiamo ribaltando la sezione di gola sul piano della lavagna se io ribalto sul piano della lavagna un'azione in questo senso mi genererà uno stato di tensione sulla lavagna tau ortogonale ortogonale al cordone ok questa tau ortogonale come me la calcolerò sarà sempre data dalla forza diviso l'aria ok quindi avrò l'azione diviso la lebra attenzione anche questa dovrà rispettarmi le mie disequazioni rispettarmi di 65 di ribalto l'equazione e mi prendo a se io invece per qualche motivo avevo deciso di ribaltare la sezione su questo piano che cosa avrei avuto? una forza che agisce in questa direzione su questo piano mi provoca la tensione fuori dalla sezione piccola ribaltata e quindi avrei avuto una sigma ortogonale la stessa identica cosa solo che se io la studio con una sezione si spalma sul cordone se ribalto la sezione dall'altra parte agisce ortogonale è una convenzione ok quindi avrei avuto una sigma ortogonale scusate T e N così si dovrà rinnovare non T ortogonale e N ortogonale quindi questo è il piano della lavagna questo è se considero il piano ortogonale avrei avuto una N questa N sarà data dall'azione spalmata sulla sezione e quindi l'avrei calcolata allo stesso identico modo ok quindi sarà data dall'azione spalmata L per A anche questa minore di 0,85 Y magicamente usciva allo stesso identico valore di altezza piccola quindi fondamentalmente a prescindere da tutti i numeri che vedete qui che vi possono dare confusione quando anche all'orale vi viene chiesta la salvatura che è difficile perché non ci hanno fatto il nuovo scritto quello che noi vogliamo vedere che voi avete capito o vi si è richiesto che cosa sarà sferamozza e poi il congine di esistenza appunto poi come ci sia arrivato e tutto quanto quello che noi vogliamo vedere che voi avete capito e che quello che poi effettivamente vi serve è che identificato uno stato di sollecitazione dobbiamo disporre dei cordoni di salvatura ad hoc e quindi che siano in grado di contrastare quello stato di sollecitazione secondo come faccio a calcolare l'altezza di vola del stato del cordone considero quali sono le sollecitazioni su quel cordone ribattando la sezione o sul piano del foglio o sul piano ottoconale e valutando le emozioni queste sono due casi semplici se vi guardate abbiamo ricordato per esempio dei casi che sono molto complicati però invece di diciamo ammazzarvi a capire ora vediamo qua se capite al volo su quale piano è stata ribattata la sezione di vola allora qui abbiamo una situazione un po' più complicata perché abbiamo gli elementi fortunati quindi quella forza F in punto all'elemento andrà ovviamente a provocare un momento quindi noi avremo in questo caso un'unione saldata soggetta a flessione ma alla fine quando è soggetta a flessione voi che formula utilizzate con le gravi trovate una sigma che è data da M in quanto di doppio niente di differenza qui che cosa andate a fare la stessa identica cosa trovate una sigma che è come tratto V dove il il W di una sezione rettangolare è quello e quindi avete due stati di sollecitazione in che senza di due stati di sollecitazione che voi avete questo cordone che sarà sottoposto a due stati di sollecitazione allora che per infacciamo la F la portiamo alla base dei cordoni si dividerà tra due cordoni e che tipo di sollecitazione mi darà se io considero la sezione dell'elemento dietro se io considero la sezione dell'elemento dietro la mia forza di taglio si dividerà e mi darà una tagli parallela ok poi avrò il momento di una tra sporto che mi darà una coppia in questa direzione e in questa direzione che sarà ortogonale quindi una sigla ortogonale quindi avrò una sigla ortogonale e una tagli parallela e andrò a fare le verifiche congiunte quindi non vi preoccupate se io mi diccio di come ho calcolato la sigla ortogonale non mi interessa quello io voglio che voi capiate che se io ho questa salvatura la mia salvatura è sottoposta considerando il piano dell'elemento dietro ah sì ma ortogonale è una tagli parallela perché io ho capito che avete capito come funziona qua ci saranno mille software che vi fanno i calcoli ma se voi non sapete neanche le verifiche risultate quello è un problema ora con questa botta di salvatore ecco questo è un altro esempio questo è simile a quello che abbiamo visto questo io vi invito semplicemente a provare a rifarveli per il punto vostro non è niente di diverso da quello che abbiamo visto questo è un po' più semplice perché c'è solo la forza nella direzione questo per esempio è un po' più complicato perché ha un momento vi segniamo solo una cosa su questo quando abbiamo un momento quello che dobbiamo fare cosa che facciamo anche in unione incollonate consideriamo le componenti quindi questo momento torciante qua io altro non lo faccio considerarlo nella coppia quindi un momento agente su due polvoni messo così che mi darà due stati di solidazione con tau parallele l'uno apposto all'altro ok questa cosa qui in questo momento è un posto e io avrò due tau parallele questi dovete provare a guardarveli per il punto vostro non ragionandoci però volevo costegliare questi ragionamenti in base allora ci vediamo per altre due ore così tra un quarto d'ora a dopo abbiamo visto nelle due ore interventi le due modalità con cui possiamo organizzare le unioni abbiamo visto una scuola che è stata a base a quello di questo e la formatura in cui l'avete nemmeno in opera e non la trasmette in dettaglio quindi mentalmente lo proteggiamo a struttura di questi pernolari cominciamo a fare queste associazioni abbiamo visto che la salvatura si riesce a fare le salvatiche quindi la colleghiamo a quelle situazioni che si può aggiungere in questo momento adesso vediamo abbiamo capito come si dimensiona quindi dobbiamo prendere le sollecitazioni andare a capire come si distribuiscono sugli elementi con l'unione o salvatore che siano e poi ho delle verifiche da normativa quindi una volta che io ho capito cosa c'è dietro le verifiche il nodo della progettazione delle unioni è capire come passo dalla sollecitazione delle elementi strutturali alle sollecitazioni ai zulloni o le sollecitazioni sui volumi cioè quello è non è altro adesso vediamo una serie di unioni di elementi strutturali e le ragioniamo proprio su questi aspetti quindi su che tipo di unione ci conviene scegliere quali sono le sollecitazioni come ci conviene progettare allora questi sono quindi andiamo ad affrontare gli oscetti perché rappresentano un po' tutte quante le biologie che possiamo esagerare perché abbiamo travi principale e secondaria due travi continui travi colonna 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 quindi andiamo a scelta e seguiamo i concorsi legali e poi gli elementi di continuazione come vi ho detto prima qui trovate questa indicazione che vi dicevo della tua libro da Carocci scaricatevi le parti svolte per avere degli esempi fatti allora vediamo intanto giunti di estremità estremità quindi stiamo portando due estremità in un elemento allora vediamo possiamo realizzarle in tanti modi qui ne sono riportate alcuni e poi vediamo i dettagli che sono questi abbiamo sopra in alto a sinistra un punto tutto saldato senza sapere niente abbiamo il titolo saldatore abbiamo capito che se è saldato è ripristinato completamente l'esistenza pressionale tagliante perché abbiamo capito che la saldatura ha la capacità di trasmettere tutte quante le solicitazioni qui abbiamo giunto tra le principali e la seconda con un ucchelino saldato e un ucchelino natura questo che significa quando è che io faccio un'unione così complicata ora ci rientriamo nel dettaglio però facciamo una mancanza voi immaginate che bisogna di unire sicuramente saldati abbiamo detto che le saldature si fanno prevalentemente in officina io che faccio mi trasporto tutta una trave e l'altra trave unita no quindi mi sono saldata la trave e i pezzettini che mi servono poi in un punto in cui il momento è più basso mi vado a unire gli altri pezzi di trave così il punto in cui l'unione è difficoltosa e mi serve una trasmissione di cometti molto elevata lo sono fatto saldato poi mi sono portata il pezzo con i moncherini e in sito attacco i moncherini per questo trovate spesso le riunioni chiamiamole con i moncherini oppure quello che viene fatto spesso questo di qua è un punto con un altro un po' più giunto quindi abbiamo una trave principale due trave secondarie che arrivano e un po' più giunto superiore quell'altro che vi vedete accanto è un punto flangiato flangiato vuol dire che abbiamo inserito una piastra una flangia in testa alle trave e poi colleghiamo la flangia quindi la trave sulla flangia è saldata e la flangia è bullonata e poi un classico quello che traduriamo più spesso è il punto bullonato ora entriamo nel dettaglio di uno di questi però per capire questi elementi sono tutte unioni tra il principale tra la secondaria funzionano in modo completamente diverso quindi a seconda di quella che io scelgo avrò uno schema statico differente e una trasmissione di ricensioni differente quindi è importante che io produttista sappia scegliere un'unione conforme al vincolo che ho assegnato perché se ad esempio io ho studiato ho fatto tutti i miei calcoli studiando una struttura ritti pendolari poi faccio il particolare costruttivo dell'unione quindi tutto lato sopra è possibile perché se ho ritti pendolari quello che io so è che sono tutte cerniere quindi cerniera uguale momento zero quindi io quella non posso rifatto quindi l'importante anche quando noi dirghiamo le unioni non è chissà che cosa perché a volte voi li perdete e cominciate a fare la procedura di dimensionamento con tutti i passaggi a memoria non ci interessa l'importante che noi vogliamo vedere è che se voi avete scelto una struttura ritti pendolari voi iniziate a disegnare un tipo di unione conforme a quella scelta quindi un'unione che non mi trasmetta momento quindi un'unione che mi trasmette prevalentemente d'aglio per quello che ho capito sarà un'unione inculonata qua sopra quella è tra purigida quella è tra purigida questo non sono sicura perché non l'ho studiata probabilmente quella che mi piace di più è l'ultima senza aver studiato niente questo è un discorso di ragionamento quindi primo aggiunto guardiamo bene grande come è fatto mi trovo in una situazione in cui ho bisogno di un modo completamente rigido devo ripristinare per qualche motivo la continuità dove ho fatto le saldature ho fatto le saldature sull'anima sul bordo che lì quindi se lo vedessi con l'altra direzione ci sarebbe tutto il bordo con il cordone sotto la trave stessa cosa sopra cosa voglio far notare allora io devo trasmettere delle sollecitazioni di taglio e delle sollecitazioni di momento se voglio ripristinare la continuità ora all'interno di una trave a doppio t chi porta il taglio e chi porta il momento il taglio è portato dall'anima il momento è portato principalmente dalle ali quindi quando io ragiono su un bordo devo sempre ragionare che se io sto collegando delle anime stiamo parlando di taglio se io sto collegando delle ali stiamo parlando di momento mi raccomando questa è una banalità se ci pensate ma gira tutto intorno a questo se io effetto un collegamento di due elementi anima-anima questi non possono non fare il momento perché io non lo toccano non si toccano dove c'è la pressione ovviamente in maniera grossolana perché la pressione è già un po' il diagramma a farfalla però principalmente quando volete studiare anche la scienza delle costruzioni il funzionamento della trave a doppia t c'è il diagramma delle tensioni tangenziali grandi sull'anima il diagramma di flessione sulle ali quindi fondamentale quando ragioniamo sulle unioni se io voglio trasferire un momento molto probabilmente dovrò avere qualcosa che con le varie funzionamento funziona funziona il mio cordone d'anima probabilmente trasferirà in taglio il mio cordone sulle ali trasferirà in funzionamento questo è lo stesso identico tipo di unione trasportabile quindi in questo caso immaginiamo la possiamo immaginare questa uno schema statico di questo tipo ad esempio immaginiamo che in questa zona si abbia un rama documenti che fa una ordine in genere noi l'unione quella saldata ce la apriamo per esempio in corrispondenza di questa zona cioè qui abbiamo la nostra travi che abbiamo in alta direzione e poi abbiamo le due travi che arrivano di qua allora se io devo in qualche modo di destinare rigidezza io non vado a fare l'unione con un picco di momento bullonata o comunque la posso fare ma è abbastanza nervosa per il dimensionamento allora quello che faccio è mi faccio la saldatura mi faccio portare il pezzo e poi unisco in opera gli altri due pezzi dove scelgo inirli qui a una distanza tale in cui la sollecitazione di momento è o zero o minima perché poi ci saranno le varie combinazioni di tarie quindi non sarà zero infatti la sollecitazione ha bulloni sull'anima e bulloni sulle ali bulloni sull'anima che porteranno principalmente il taglio o bulloni sull'anima principalmente il momento parlo di principalmente perché spaglio oggi e se la voglio a completo in cristino anche questi devono portare un po' di pressione però è per farvi capire quindi che cosa faccio se ho delle condizioni per cui mi serve una saldatura di un nodo ma non mi posso portare 15 metri di elementi insieme faccio la saldatura dove mi serve e poi attacco i pezzi lateralmente in un punto in cui vi rompo qui e vi ricollego in opera con ad esempio una soluzione di questo tipo questa stessa cosa se devo andare a unire i pezzi ma non voglio fare la saldatura mi dico no no la saldatura non la lascia stare torniamo un attimo su questa cosa noi abbiamo detto che questi elementi laterali alla saldatura è facile facile tra virgolette prendo il momento scompongo gli assi e dimensioni vari cordoni per quanto riguarda questi elementi laterali come ragiono a cosa saranno sollecitate queste unioni laterali queste unioni laterali abbiamo detto l'anima porta il taglio le ali portano a pressione ma che significa io adesso magari vi chiedo è un'unione a taglio o un'unione a trazione e in questo momento si vede una scena non lo so è facile come lo vedo questa cosa allora i bulloni sull'anima prendiamo la sezione qui tagliate qua questi ok i bulloni sull'anima facciamone anche di meno per non fare confusione sul disegno facciamo neanche solo 4 allora ipotizziamo che noi stiamo facendo l'unione in questo punto con un piccolo momento e con un valore in taglio t quindi non qui avremo t e m qui come ragioniamo allora lo sforzo di taglio viene portato dall'anima quindi prendo e collego le due anime di mai queste due anime saranno soggette a questo taglio quindi la mia bullonatura sull'anima prenderà il valore globale del taglio e lo dividerà in modo uguale sui suoi bulloni per quanto riguarda il bullone dell'anima quindi il mio bullone dell'anima io prenderò il taglio 50 newton ogni bullone tra sollecitato sollecitato a 50 diviso 4 benissimo predimensiono il bullone scelgo un bullone mi inverto la forma al travolare del bullone quello che vi pare decido io cosa fissare e cosa dimensionare mi calcolo le distanze e dopodiché so che il bullone al taglio si rompe in 4 modi verifica straffo verifica attrazione verifica rinrollamento verifica questo punto non vi impantanate in mille procedure perché voi trovate nelle varie procedure una volta viene fissato il bullone e si calcola la distanza un'altra volta viene fissato il diametro e si calcola il numero voi in realtà voi neanche fissate tutto e poi verificare che vada bene quindi adesso decido che voglio lavorare con 4 bulloni e provo con i bulloni di un minione che ho fatto a casa che era 18 e vengono bene e provo a vedere se vanno bene la cosa importante è che voi capiate che questi 4 bulloni stanno smettendo il taglio per gli alimenti e fino a qui è abbastanza semplice chi porta il momento allora noi avremo un diagramma di questo tipo quindi in un momento la parte più grande delle tensioni dovute al momento saranno portate alle varie in via approssimativa iniziale per capire cosa stiamo facendo noi capiamo che in qualche modo devono essere collegate le varie quindi prima cosa che possiamo fare se non usiamo la salvatura troviamo le varie quindi un po' rigiunto sopra un po' rigiunto sotto ok poi ci hanno detto questo deve trasmettere il momento ma che i bulloni non sono sollecitati al momento quindi scomponiamo questo momento nelle sue componenti dove le applichiamo le applichiamo sulle ali quindi noi avremo un momento questo caso tende le fibre inferiori quindi sarà un momento che ruota così quindi avrà una risultante qua e una risultante qua ok quindi lo sforzo di taglio si divide dai bulloni il momento viene portato principalmente dai propri giunti quindi io andrò a mettere questi propri giunti ovviamente bullonati quindi qua per esempio un bullone un altro bullone un bullone un altro bullone i bulloni dei propri giunti a cosa sono soggetti? facciamo una vista del coprigiunto dall'alto noi vediamo il coprigiunto dall'alto questo è l'asse della trave l'anima questa è la miseria abbiamo due bulloni qui due qui e ovviamente dall'altra parte uguale ok questa è la piastra che sta sopra quindi noi in sezione vediamo quattro bulloni sarebbe la vista da questa parte scusate se insisto ma molti di voi non sanno disegnare non so per quale motivazione ma non sapete disegnare infatti il mio suggerimento le unioni invece di perdere ore e ore a fare mille passaggi di calcolo provate prima di tutto a disegnarle tutte a capire come funzionano poi mi ci mettete i numeri dentro se non capite come funzionano non le potete mai calcolare allora quindi questa è geometricamente la mia unione la mia azione qual è? questa che agisce così a cosa sono solicitati questi bulloni? a taglio ok? perché i bulloni sono in questa direzione autogonale alla vana quindi questa unione ad esempio trasmette sollecitazioni di taglio in questo momento perché l'abbiamo fatta in una zona in cui c'era il momento mediante l'utilizzo di bulloni sollecitati a taglio ok? è chiara qua gira tutto intorno a questo quindi bloccatemi se non avete capito veramente allora io considero le sollecitazioni di partenza le scompongo e mi rendo conto che per portare il momento se considero la coppia risultante questa darà una solicitazione di taglio sui miei bulloni perché questa agisce oltre un aumento al campo di bulloni poi ci sono delle formule che trovate sulla dispensa che vi dicono se questa la volete a completo è riprissimo cioè che porta tutto il taglio e tutto il momento ricordiamoci che c'è tutta questa parte di diagramma fondamentalmente che vi devo portare questi quindi ci sono delle formule che ti fanno a calcolare l'esistenza dei bulloni anche per portare questa pressione però a prescindere dalle formule il discorso fondamentale è che se io voglio un'unione che mi ripristi l'anima al momento devo aver collegato varie anime primo secondo i bulloni dell'anima e farle che sono soggetti a taglio i bulloni delle ali sono soggetti a taglio anch'essi perché si scompone il momento poi avrò una quota parte di momento aggiuntivo portato dall'anima per garantire il completo di unissimo se no è canziale di unissimo ma se non vi ricordate la formula per considerare che i bulloni dell'anima portano un po' il momento non mi interessa a me interessa che voi abbiate collegato sopra e sotto e sappiate come si trasmissono le recitazioni mi sono rimanato un po' e poi funzionano molto in maniera simile anche altre allora ritorniamo con un discorso simile se noi ragioniamo su quello che ci siamo detti questa unione allora vedo un collegamento sull'anima e quindi trasmette taglio vedo un coprigiunto e quindi trasmette momento vi faccio notare una piezza il coprigiunto è burlonato a una parte di grave e all'altra parte di grave quindi trasmette il momento tra questo elemento e questo elemento quello al centro la grave potrebbe essere anche una colonna questa nell'altro senso non si prende il momento ok perché quella grave quella centrale è collegata sull'anima poi ha un coprigiunto sopra che mi garantisce il collegamento per le due ispezioni per questa situazione lo stato di sollecitazione sarà assolutamente analogo a quello sforzo di taglio di partito tra i bulloni momento di partito sui reali che mi sollege a taglio i bulloni superiori io qui mi immagino una situazione in cui dove stanno i fiori valese guardando questo stanno sopra perché il coprigiunto e sopra tende tra virgolette a aprirsi ora si usate il termine sotto tenderebbe a schiacciare la grave e sono adirsi questi spessori che cercano di inserire il danneggiamento dell'anima della grave quindi io guardando questa dovrei sapere già qual è il diagramma dei momenti mi aspetto fibre tese superiori mi aspetto un diagramma del momento e mi aspetto un diagramma del taglio quindi io guardando un'unione posso capire lo stato di solicitazione quindi quando uno vi chiede come immaginate l'unione questo è il discorso mi immagino che collego gli elementi strutturali e disegnate l'elemento strutturato mi immagino di collegare l'anno e il tasso di realtà mi immagino di collegare il momento dato che le fibre tese sono superiori avrò probabilmente la piastra superiormente questo punto flanzato allora cosa leggiamo qua sotto trasmette l'azione tagliante è un momento flettente che diventa dal dimensionamento di ganglia e di burloni cosa c'è dietro questa affermazione allora vediamo collegamento sull'anima trasmette taglio siamo sicuri poi vediamo però una cosa vediamo due bulloni che sono molto più lontani di quanto sono i bulloni nelle unioni bullonate quindi questi bulloni così lontani in realtà sono in grado di generare una coppia anche questi sono in grado con una coppia talmente piccola che non ci facciamo niente in questo senso se io effettivamente considero un'unione in cui ho una coppia di bulloni abbastanza lontana effettivamente posso pensare che mi riesco a portare una parte di questa risultante perché quella che dicevamo si porta l'anima se io ho due bulloni che mi prendono una coppia e quindi sono sottoposti a trazione me la posso calcolare quindi questa frase dice trasmettazione dagli altri che ho collegato l'anima momento potente che dipende dal mio sentimento di plaggio e bulloni significa che se io ho fatto una planga che va da sopra a sotto e ho messo esagerare e ho messo un bullone praticamente sotto l'ala un altro bullone sotto l'ala quei bulloni effettivamente hanno un braccio talmente grande che mi trasmette una buona ancora parte di un momento del tempo quindi quando c'è un'unione plagiata nella nostra mente compare il concetto di trasmissione del momento perché in un'unione plagiata cioè con una piastra i bulloni stanno molto più lontani stando lontani hanno un braccio vengono sottoposti a trazione e compressione e quindi possono portare un momento in modo con la trazione e la compressione e questo è un'unione principe che tutti studiate perché è la prima che c'è sugli esempi quindi di buona volontà avete gli esempi e vi cominciate a mettere a fare questa perché va bene però come dicevo prima non focalizzatevi su mille passaggi da imparare anche perché nessuno vi chiederà mai a memoria i passaggi però l'ultima cosa ci interessa formalizziamo su come funziona allora quando noi facciamo una struttura a retti pendolari o anche non a retti pendolari noi cosa facciamo? calcolo del solaio sempre poi facciamo il calcolo della trave secondaria in qualsiasi configurazione noi scegliamo a retti pendolari o a telaio com'è lo schema statico della trave secondaria appoggiato quindi le connessioni delle trave secondarie per me progettista sono sempre delle cerniere quindi se sono delle cerniere le ali dei miei elementi non si toccano non sono collegati perché con le ali trasmetto momento quindi trave principali è questa grande trave secondaria di arrivo devo avere un vincolo di cerniera collego gli elementi solo sull'anima ok? come li collego bullonato cerniera bulloni sull'anima sono cerniere questa è una cosa importante ora qui vi fa vedere una situazione in cui che veniva fatta di più prima in cui per evitare il piano di valdizione del solaio sia storto si taglia la trave e si fa in questo modo in realtà fare questo taglio della trave è molto costoso quindi quello che viene fatto spesso adesso è questo anche perché meno operazioni vanno fare meno casini vanno allora andiamo la trave principale poi abbiamo la trave secondaria ovviamente per fare questo tipo di unione la trave secondaria deve essere la trave principale ma quello è generalmente vero perché generalmente tendiamo a fare distituto del solaio che prevedono le secondarie più piccole dei principali più corte in genere questo viene fatto anche proprio per garantire il sistema di unione allora se noi non vogliamo tagliare l'ara alla trave che uno indebolisce la trave e due è una procedura complessa possiamo mettere la trave tutta quanta dentro ok e l'aggiustaggio fondamentalmente lo facciamo con il prozolaio quindi qui ci mettiamo la parte piana della lamiera e poi lo facciamo in questo modo così anche dall'altra e poi sopra c'è tutto l'oggetto del solaio in questo modo il piano del solaio è un pane piano sistemare la lamiera in questo modo è più semplice di andare a tagliare la trave quindi quello che io vi suggerisco per le unioni che fate anche voi al compito senza andare a tagliare non taglio la trave non taglio la trave vi suggerisco di scegliere una soluzione di questo tipo perché è la più semplice come aggioro quindi allora io ho le sollecitazioni che provengono dalla trave secondaria quelle che noi chiamiamo RTS nei nostri esercizi ok se vi andate a riprendere l'esercizio il numero che io cerco è RTS perché cosa facevano noi dicevano che la situazione è questa quindi facciamo una cosa abbiamo il solaio questo è un piano quindi l'ho impalcato è 8 metri per 4 metri ok decidiamo di disporre travi secondari ogni 2 metri quindi qui andiamo 2 metri visto che i fogli di lamiera aggregata sono in genere di questioni di trasporto di massimo 6 metri io mi aspetto di avere due schemi statici di questo tipo quindi 2 travi appoggiate da 4 metri da scusate si travi appoggiate da 4 metri con campata di 2 metri ok faccio la mia risoluzione e mi viene la reazione alla base del solaio la relazione che mi viene generalmente con la parte della reazione centrale del solaio la applico sulla mia trave secondaria 4 metri trave secondaria e mi viene una reazione della trave secondaria questa reazione della trave secondaria la applico sulla trave principale ok ora sto ripetendo di banalità ma colleghiamo i due procedimenti qui abbiamo quindi una trave principale di 8 metri nel nostro caso avremo quali reazioni questa questa e questa quindi una reazione di 2 metri ok quanto varranno queste reazioni saranno proprio l'appoggio il valore all'appoggio della trave secondaria quindi varranno RTS ripetiamo una cosa che tanto ci torniamo dopo non consideriamo le reazioni all'appoggio perché perché in questo punto e in questo punto la trave secondaria non sarà attaccata alla trave principale fisicamente ma sarà attaccata alla colonna dopo vediamo anche come quindi ragioniamo con questa cosa e poi ci torniamo quindi noi la trave principale la progettiamo così quindi questo è il schema statico scelto come lo traduziamo in un'unione quindi noi abbiamo che questo RTS deve diventare questo l'unione che si deve questa cosa quindi stiamo trasmettendo taglio tra questi due elementi trave secondaria che scarica sul trave principale quindi semplicemente io avrò questa configurazione più semplice di quella d'Italia e utilizzano delle squadette che sono gli elementi ad L in questo modo quanti dico li metto due o tre mettono due più semplici di dentro allora a cosa saranno soggetti questi elementi allora noi immaginiamo che lo sforzo di taglio sia applicato nel paricentro degli elementi quindi qui in realtà il punto in cui si trasmettono le sollecitazioni è questo è proprio la buonatura ok quindi in realtà il punto in modo di punto legale è quello che è questo qua e il fatto di averlo trasportato mi genererà un momento fittizio che è proporzionale alla distanza tra l'asse del cadale e l'asse della buonatura che sarà sempre perché non è che posso buonare sopra l'anima se mi hanno la F ok quindi i miei bulloni a cosa saranno soggetti saranno soggetti a questo palito che si partirà sui bulloni e ha una coppia potete vedere la coppia sollecitante o la coppia resistente potete vedere la coppia sollecitante o la coppia resistente non mi interessa quindi la coppia giù di qua o la coppia giù di qua uguale fondamentalmente una cosa importante è che ci sarà un momento che si sconfie in questo modo quindi la mia risultante sui bulloni sarà data da una risultante in questo senso e sarà una R fatta così ingrandendo solamente i bulloni io avrò lo sforzo di taglio che si divide e un momento derivato dal fatto che l'asse in cui si applica la calificazione non è l'asse della bullonatura che esiste in questo modo e quindi avrò nelle componenti R qua ecco che ho trovato R con questo R faccio il mio quadro che è il punto quindi l'unione di per se stessa non è difficile quello che voi non avete l'esperienza sufficiente per fare è dire vabbè ma io quanto faccio grande questa squadretta che bulloni prendo quello che io vi adesso vi chiamo delle regole di predimensionamento però a prescindere se voi vi siete svolti ma due unioni attivo a casa e i tipi che usate sono pochi anche noi li abbiamo tutti ma i tipi che usate sono 4 avete sviluppato un minimo di sensibilità prendete il numero che vi viene al compito prendete il numero che avete sugli esercizi se hanno similitudini ad usare le righe del 20 prendete cioè 20 18 potete fare benissimo così non è che io voglio vedere vicine e vicine di equazioni che mi fanno vedere quanto siete bravi anzi meno quelle equazioni usate e poi che ho capito il numero quindi questa era per farmi vedere ora torniamo su questi quindi un'unione tra trave principali e trave secondali tra smette taglio c'è un momento fittizio dovuto alla nuova spiegazione il momento fittizio si scompone quindi unione rimane sollecitata solo a taglio solo che il taglio non è diretto così ma è diretto l'adversario questo si può fare con tutta una bella procedura che è quella che trovate sull'esercizio vediamola rapidamente per capire quali sono le cose chiave e quali sono i passaggi matematici questo è un nodo del vostro esercizio quello che abbiamo fatto durante l'anno quello là in particolare dove vanno come trave principali ogni 500 e come trave secondarie ogni 240 noi scegliamo la classe dei bulloni abbiamo visto prima 4,6 5,6 dobbiamo fare le verifiche a mano la maggior parte delle volte le hanno utilizzate i bulloni almeno 8,8 quindi consiglio di scegliere uno dei classi 8,8 questi sono i disegni che tu hai fatto brutti alla lavagna fatti bene qui avete l'asse e qui avete l'altro asse e questo è il modo in cui viene distribuito l'ambino natural allora voi dici adesso so la mia risultante la posso calcolare questa è la mia risultante è il taglio totale che sono uno di bulloni è una delle componenti l'altra componente H altro di me che la propria di due braccia quindi è quello quindi io posso calcolare la mia risultante quindi se io mi sono già disegnata a priori un'unione così io posso già calcolare R in una direzione e nell'altra qua stiamo vedendo spalmando la rata e vedendo la secondaria che arriva tra prima la stessa situazione qui ci sta la procedura nel caso che io non sapessi dimensionare niente quindi qual è il problema io non posso calcolare questa risultante perché cosa mi manca mi manca F e P cioè mi manca a che punto ha messo questi bulloni e quanto sono distanti da loro allora o vuoi stabilire a priori guardando le riunioni che bene o male vi sono piaciute geometricamente come hanno funzionato sapendo che il passo comunque ha delle dimensioni da normativa sapendo che la distanza del volo si trovate le dimensioni da normativa scegliete quelle e vedete se vanno bene se invece volete fare tutto il calcolo ottimizzato che cosa facciamo calcoliamo una risultante approssimata quindi non possiamo calcolare l'h facciamo finta che due h sono uguali all'inizio mi calcolo l'area del bullone mi calcolo le dimensioni della squadretta utilizzando le limitazioni di normativa e dopo di che a quel punto io so quanto sarà lontana il foro dal volo il nostro calcolare è effettivizzato quindi semplicemente quello quindi è un modo per calcolare una r approssimata che mi fa calcolare il diamo di un uomo però se voi decidete una qualsiasi altra vostra ipotesi in partenza la cosa importante è che voi disegnate una squadretta in cui le posizioni dei fori rispettano le dimensioni da normativa e quindi a quel punto potete calcolare la risultante esatta perché ci avete automaticamente tutti i bracci dei minenti e a quel punto calcolare R e invertendo la formula della decisione del gambo in calcolare l'area minima a quel punto fate le altre verifiche la decisione del gambo la decisione della verifica di formamento la resistenza e lo strappo come potete fare perché avete già dimensionato usando quelle squadre quindi la procedura a prescindere da quanto è lunga non focalizzate su quanto è lunga focalizzatevi sul fatto che deve essere corretto il tipo di unione che scegliete quindi sto facendo un'unione pulonata e devo trasmettere tanto sto collegando i documenti poi sto trasmettendo un tipo di sollecitazione che non è applicata esattamente sull'asse della duronatura quindi ci sarà un momento un momento parassita scusate non fittizio parassita questo momento si comprende la coppietta piccola che si può fare tra i bulloni perché appunto da due bulloni quanto piccola si ha una coppia e quindi ha una risultante inclinata poi a quel punto io mi faccio OR ho le dimensioni geometriche quindi mi faccio tutte le verifiche quindi tutto quello che vedete in mezzo non vi complicate la vita la stessa verifica di resistenza serve a vedere che la mia sezione forata può essere vista ugualmente quindi fondamentalmente io ho delle sigma e delle tau e vado a fare un conto sulla sezione indebolita ora a me ci stanno più un libro tutti i calcoli di commento di inerzia con la sezione forata un doppio della sezione forata quella è ovviamente la procedura pulita che è quella che voi dovete fare in un calcolo che consegnate al genere civile ma se a livello d'esame io capisco che voi sapete che dovete fare la prività di resistenza sulla sezione forata se alla quinta ora ci compito non vi calcolate il momento di inerzia non voglio succedere niente quindi vedete bene il vostro quaderno una volta per capire di cosa si sta trattando ma mi raccomando non perdete un pomeriggio a fare il momento di inerzia della sezione qui fuori senza capire che cosa state facendo fondamentalmente nel caso che tagliasse la sezione si aggiunge un'altra verifica legata al fatto che avete tagliato la sezione che potrebbero resistere più quindi la verifica della sezione è indebolita ma nei vostri conti io vi consiglio di scegliere questa configurazione che è più facile da calcolare allora poi questi sono tutto quello che riguarda i giunti di estremità ma in realtà è un discorso che vale per tutto cioè il discorso di le sollecitazioni non sono mai afficate in un punto in cui si permettono le sollecitazioni che è la buonatura non coincide mai col baricentro dell'elemento quindi avrà sempre questo momento parassita devo calcolare le sollecitazioni e devo calcolare il giusto funziona per tutti gli uomini vediamo che applicare questi concetti che abbiamo visto agli altri elementi questi che abbiamo visto la valutazione per tutto allora questi sono giusti internet stiamo collegando due pezzi di trave quando mi succede di fare una cosa del genere ad esempio il mio testito d'esame o la mia struttura da progettare ha trave più di 12 metri per problemi di trasporto le trave hanno dimensioni commerciali fino a massimo di 12 metri se in genere riscontri tutta 6 però diciamo 12 io come faccio a fare una trave da 12 metri da 13 metri mi faccio tutti i calcoli considerando un elemento unico da 13 metri cioè la trave lo sbalzo da 13 metri da calcolo momento taglio e tutto io progettista a un certo punto dovrò sapere che quei 13 metri interi non me li vendono devo comprare due spezzoni e gli devo dire a loro di che lunghezza voglio gli spezzoni e mi devo ordinare i pezzi per ripristinarla con il minato come ragionerò per una questione del genere allora immaginiamo che una delle mie gravi sia venuta con questo schema strutturale ok 9 metri 4 metri per esempio ok quindi questa configurazione avrà un diagramma dei momenti mi aspetto una cosa di questo genere ok attenzione intanto al diagramma dei momenti che mi aspetto mi raccomando lunghezza dello sbalzo non lunghezza dello sbalzo perché se la situazione era al contrario 4 era rampata 9 lo sbalzo perché il diagramma 6 io mi faccio tutti i calcoli 13 metri poi devo andare a fare la distinta dei pezzi ora dove mi conviene andare a rompere questa grava mi conviene andarla a rompere in una zona dove le sollecitazioni sono basse così fare l'unione non mi viene un'unione difficile da dimensionare o comunque grossa allora andrei a scegliere questa zona quindi ad esempio ipotizziamo che sono 7,5 metri e quanti sono 13 sono quelle che mancano 5,5 quindi io ordinando gli elementi in acciaio se mi è venuta una ip500 ordinerò una ip500 da 7,5 e una ip500 da 5,5 a quel punto dovrò aver progettato anche l'unione tra i pezzi allora come la posso fare quest'unione? giunto saldato ok qual è il problema che giunto saldato potrò fare un'officina per gli importano un pezzo da 10 bene a voi tutti diremo se ci avete un cantiere che ha un'officina in un'opera magari per i grossi cantieri tipo autostradali infrastrutture potete farvi arrivare i pezzi e fare la saldatura nuova e il giunto più semplice è pulito allora il primo quello che generalmente viene fatto è questo il giunto bullonato a completo ripristino in quello bullonato a completo ripristino qual è la differenza con quello accanto bullonato solo sull'anima allora quello accanto quello bullonato solo sull'anima mi porta solo le azioni di tanci questo mi porta anche le azioni di un momento anche se noi lo andiamo a fare in questo punto esatto noi dobbiamo progettarlo con i copri giunti perché questa è una configurazione di tarico basata su tarico di variabili uniformemente distribuiti di 200 kg al metro quadro di un solaio saranno mai uniformemente distribuiti? no noi siamo uniformemente distribuiti? no quindi ovviamente se io sto progettando un'unione di continuità io devo avere elementi che collegano l'anima ed elementi che collegano il giunto se per qualche motivo io voglio che questa sia una sorta di cerniera interna allora io però ho un'unione di un'anima ok? se invece voglio che trasmetta taglio un momento anima reali l'altro modo in cui posso decidere di collegare questi elementi è questo aggiunto frangiato sotto allora io ordino una trave da 7,5 con una piastra interna in testa una piastra una trave da 5 metri in centro con un'altra piastra interna in testa arriva con due pezzi in santiere e bullono questo unione è in grado di trasmettere sia taglio che momento perché il taglio scende sui bulloni non mi importa se stanno alcuni contro alcuni contro si distribuisce in modo uguale e il momento viene preso dalle bocche dei bulloni a trazione guardando questa configurazione come la dicevamo prima mi aspetto che il mio momento di questa situazione tenda le pibre inferiori però i bulloni dove sono a trazione ora li vediamo un attimo nel dettaglio però questa è la panoramica quindi giunto caldato ripristina tutto complicato da fare in opera quindi se posso fare in opera in maniera particolare o se proprio mi possono portare il pezzo da 30 metri perché comunque ho già ordinato un trasporto eccezionale allora metto tutto un trasporto eccezionale questo saltato in testa è bullonato sull'anima a livello teorico funziona benissimo perché saldo gli ali che trasmettono il movimento bullono l'anima che trasmette il taglio poi se voglio lo voglio a completo ripristino dovrò controllare come nel caso che abbiamo visto che i bulloni dell'anima portino anche una cosa da parte di movimento se no non è a completo ripristino ok però questo ovviamente voi dite ma a questo punto faccio tutto saldato giustamente quindi questo effettivamente non l'ho trovato tantamente perché non è mischiare le due modalità in genere è giusto per farvi capire che in giunto un punto del genere posso considerare a completo ripristino solo se ho considerato anche una quota parte di movimento e il buono dell'anima questo è quello che si lavora spesso come abbiamo visto prima come funzionerà questo giunto allora è la stessa identica cosa di quando ci avevamo messo la tavola in mezzo mostro in due pezzi senza la tavola in mezzo un elemento un elemento un elemento burro natura estesa quanto sia sull'anima ovvio le situazioni grandi devono essere tanti bulloni sono stati piccoli devono essere bulloni generalmente quando parliamo di completo ripristino immaginiamo dei miei contanti bulloni ma perché le sollecitazioni sono elevate però a livello di concetto se la porta lo prendiamo anche con i bulloni allora trasmetto io qui immaginiamo che prendo questa sezione qui avrò un taglio argomento avrò qui il mio taglio qui avrò le imprechese inferiori quindi sarò qua e quindi avrò il mio taglio che si divide in parti uguali sui vestibuli dell'anima devo collegare le sollecitazioni dalla parte sotto avrò una plancia inferiore e una superiore e un copio aggiunto poi se il mio nodo è particolarmente sollecitato allora come vedete qua questo è il nodo che porta delle sollecitazioni elevate avrò un copio aggiunto che è una copio di giunto questa è una piastra qui e qui sono un riforzo e avrò un bullone chi porta cosa l'anima porta il taglio le ali scomponiamo il momento tramite i bulloni sollecitati a taglio stessa identica situazione che abbiamo messo prima trasmetto nel momento per comprare il list io considero che anche i bulloni dell'anna porta un po' di baglio quindi ordinerò due pezzi diversi e progetterò l'unione in modo che in cantiere mi arrivo questa trave questa trave questo le due piastre e unisco il bullone in cantiere questo funziona quando viene dato un compito con un elemento sopra dei 10 metri non è che pensiamo che riusciate a fare tutto il piacere tutta l'unione con tutti i calcoli per camminare da vedere nel dettaglio sono abbastanza lunghi però quello che vogliamo vedere è che uno vi siete accorti che è sopra i 12 metri e non me la vedo perché se poi fate i progettisti e andate a progettare una cosa del genere senza rendervi conto il committente che deve pagare il trasporto eccezionale non la prenderà benissimo perché se quella avete progettata in terra e non avete fatto l'unione quella non è la prima quindi uno che vi accorgiate che sopra i 12 metri due che ragionate su dove spezzarla e tre che vi disegnate almeno almeno disegnato un giunto che sia a completo ripristino cioè non vi disegnate un giunto che ci abbia solo il taglio perché dire io ho messo qui a solo il taglio e questo è ovviamente una sformalizzazione reale quindi se io voglio completare il cristino devo mettere elementi sull'anima e elementi reali sempre una volta che mi avete disegnato questo e mi avete detto i bulloni dell'anima sono soggetti a taglio e i bulloni delle anima sono soggetti a taglio io vi dico che avete capito che poi finisce il tempo però ognuno in cui voi ne avete già messo e sapete che sono soggetti a taglio e l'avete disegnata così per me la sapete fare perché poi è giusto un discorso di equazione quindi mi raccomando il flangiato per l'appunto avevamo un discorso che in un evento viene trasmesso per bulloni a frazione che mi dà una coppia e questo invece tradizionato al solitario quindi questo è una cerniera interna allora vediamo un esempio che ci raccontiamo insieme voi avete quindi dicono che avete una determinata luce da coprire che ha più avvolgi intassite voi i progettisti quindi scegliete voi qual è lo schema stato da costare la cosa importante è che voi dovete sempre rimanere coerenti con lo schema statico adottato perché uno schema statico vi darà delle sollecitazioni se voi quindi utilizzate lo schema statico delle sollecitazioni e poi vi progettate un'unione che non c'entra niente avete invalidato tutto dal mix cioè avete sbagliato tutto quindi attenzione non è che ho sbagliato l'unione se io progetto un telaio e poi vedo sul nodo un'unione a cerniera non è che sbagliato l'unione ma sbagliato tutto concettualmente che un telaio deve trasferire il momento e una cerniera sull'anima non trasmette il momento quindi attenzione allora noi abbiamo queste luci da coprire possiamo unipotizzare due schemi statici una trave continua su tre foggi o due travi indipendenti questi due schemi avranno delle unioni completamente diverse allora scegliamo la trave continua su tre foggi se la trave è continua su tre foggi noi avremo un diagramma di un'unione di questo tipo se il carico è un momento di partito avremo l'immaturazione di questo tipo quindi come vincolo solo taglio solo taglio cerniera trasmissione di taglio il momento al centro attenzione perché questa cerniera è sotto non è non taglio i denti quindi io mi aspetto qui un tipo di unione che trasmetta proprio taglio e qui un tipo di unione che trasmetta anche il momento vediamo cosa abbiamo disegnato qua la prima allora la prima ha messo la forzione più banale a livello di buronatura è taglio saldatura è momento faccio il banale metto le squadrette sulle anime e quelle sono perfettamente per un po' cerniere da manuale e al centro così poi ho visto le frange le frange portano parli il momento altra soluzione voglio usare la saldatura al centro non mi posso far arrivare nel palcato insieme e quindi faccio quello che abbiamo visto prima qui abbiamo la saldatura qui abbiamo le frange natura e qui abbiamo delle cerniere interne che trasmettono solamente l'aglio questa seconda unione è ovviamente rappresentativa di una soluzione ideale soluzione ideale come se il carico fosse sempre quello quindi sempre questa zona è zero e quindi non metto come giunta a livello ideale se io devo ripristinare completamente qua sopra ci saranno ovviamente i propri giunti quindi saldatura al centro muncherini in modo tale che non ho fatto unione nel punto della sollecitazione massima muncherini uniti se voglio ripristino completo con i propri giusti e l'allare di cerniere se invece io voglio tutte le ralle appoggiate no questo è sempre ah questo è l'avamo già partito da lì scusate quindi per vedere ecco questa è quella con il punto della plaggia e questa è quella con la saldatura che abbiamo già inoltre inoltre cosa importante qua non si tocca ma attenzione mentre qui questo piccolo particolare è fondamentale cioè cambia tutto poi ho deciso di considerarlo come due travi accoggiati e corale allora in questo caso si parla di tutte cerniere che sono trada accoggiata e trada accoggiata e quindi cerniere 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 tutto in grado c'è 12 c'è 12 provate gli esempi di questo proprio giunto di questa unica di produttività calcolata sul libro vedete per farvi un'idea le solicitazioni sono molto migliorate non potrebbero entrare in un libro non potrebbero essere in un metro stiamo parlando di solicitazioni molto elevate senza entrare nei dettagli dei dati che poi ci potete entrare nel caso in casa qual è la cosa che dovete notare stiamo facendo un dimensionamento di un giunto a completo di distino quindi abbiamo avuto che questa parte volterà con il giunto di distino e che questa parte volterà con il giunto di un giunto essendo a completo di distino però abbiamo detto che c'è una quota parte del momento cioè un pezzo interno del programma che deve essere voltato dall'arma esiste questa equazione senza entrare in un'occasione scavata per i quelli che semplicemente il momento che deve portare l'anima è il momento totale a cui sono citato meno questo momento che sono in grado di portare le ali quindi voi vi calcolate il momento che serve che porti l'anima lo ripartite su bulloni come sforzo e taglio e poi fare dimensionamento e verifica del collegamento delle ali quindi il cover giunto con lo sforzo di taglio che sono le unioni velocitari a taglio dimensionamento e verifica del collegamento dell'anima e quindi l'anima lo sforzo di taglio quello aggiuntivo dal momento tutti i bulloni velocitari a taglio e 4 litri del taglio altra cosa che rimanda veramente in confusione allora il giunto grave colonna noi consideriamo generalmente due tipologie di unioni fondamentalmente tra la valida e la corona ci abbiamo la geniera quando abbiamo scelto una schiena di triangolari e una colonna incastrata a base un nodo rigido quando abbiamo scelto uno schiena di triangolari quindi abbiamo queste due tipologie secondo quello che ci siamo detti finora vediamo a chi somiglia a questi nodi tutto va dato sarà sicuramente fratello di un triangolo tutto bullonato talana cerniera abbiamo già capito questo allora il primo appunto è tutto saltato presenta addirittura il dirigidimento delle piastre in mezzo perché le ali che spingono sulle ali della colonna devono provocare delle deformazioni che sono questi elementi che arrivano a portare le deformazioni giunto franciato allora da quello è il classico modo di interagio ora ci mettiamo in dettaglio proprio qui la colonna la trave qui accadde una chiastra e poi ci sono i bulloni l'ultimo a destra in alto è proprio il classico esempio una trave principale che arriva su una colonna questo è un punto salutato difficile da trovare nessuno però quando lo potremo trovare dovremo trovare quando hanno fatto la portatura e facermos il tre quello viene fatto molto spesso adesso l'unico punto a Roma dove penso riuscire a vedere del mio in acciaio a piazza non ne chiamo piazza di Tavola di Villa Villa Porghese salendo in mezzo ai pericoli stanno costruendo un edificio in acciaio e c'è tutte le bulloni aperte se fate una passeggiata a parte gli scherzi andatela a vedere perché vedete da moltissimi esempi di moncherino una cosa non la cosa lo stanno costruendo adesso quindi se andate in fretta provate ancora tutti i bulloni aperti moltissimi elementi in acciaio costruzioni a ruolo che mi ha dato un pochissimo in acciaio se ci passate un fluscio tra insomma una macchina e una seccavola allora parte questo quindi questa è una tattatura e poi vi fare con un moncherino perché adesso viene realizzato tanto questa informazione giusto per essere in grado di guardare una struttura perché con la normativa sismica che noi adesso non vediamo c'è un approccio che voi avete sentito che si chiama la gerarchia delle resistenze che dice fondamentalmente che io voglio far rompere le travi prima delle colonne perché se si rompe il solario non trovo la lettera a struttura questo è un fatto argomento molto semplice quindi quello che viene fatto nelle strutture moderne in acciaio dei nodi super robusti e delle unioni bullonate spostate un po' al lato dei nodi quindi trovate molto spesso questa tecnologia di saldare il nodo e fare il broncherino con l'unione immunomale qua ed è proprio il fatto che se si deve rompe qualcosa si poterà qui e non si poterà la donna questo perché se vedete qualcosa di aperto lo trovate veramente fatto così questo ecco questo per esempio vediamo qualcosa che porta il taglio e qualcosa che porta il video e l'ultimo perché questo voi non so per quale non lo sapete disegnare è unione di una trave con l'anima della colonna rassegnatevi le vostre strutture sono bidimensionali e quindi se questa è una colonna e qua arriva una trave giuro che ne arriva anche una dall'altra parte quindi se io seziono da una parte vedo questo se io seziono dall'altra vedo questo quindi queste due non sono completi sono le due perché in teoria dentro a quell'anima c'è una trave e attaccata a quest'ala c'è un'altra trave ora facciamo un esempio però posso verrà ricordate sono sempre ridimensionali allora giunto saldato costoso necessita saldatura in opera ma mantiene in giro quando lo posso trovare questo qualche scrittura super bella a livello architettonico una forma super particolare che mi faccia un buonatore che mi rovinano tutto facciamo a farli in opera pagano loro nel senso sarà effettivamente verrà magari siccome un'opera a livello architettonico molto importante accetteranno i posti di fare le verifiche del saldo in opera quindi magari sarà così sarà un po' più verile allora se le solicitazioni sono basse non ho bisogno di rigiudimenti saldo in basta è difficile avere un posto di questo genere vediamo quelle che utilizziamo noi allora dobbiamo fare il nodo di un telaio il nodo di un telaio deve trasmettere l'altro momento abbiamo in genere la funzione scelta è questa il cosiddetto di un po' giangelo disegniamo un attimo per capire cosa funziona quando dovete disegnare un'unione cioè considerate subito chi sta trovando e io vi consiglio veramente fate tanti tanti disegni non fate cento calcoli non mi interessa fate disegni perché voi non sapete disegnare generalizzo ma io sono 70% di voi non sapete di nuovo allora stiamo collegando ragioniamo soprattutto quando noi facciamo un telaio la struttura del telaio avrà una colonna soggetta presso pressione quindi dobbiamo citare passate la voce scusate dobbiamo citare la colonna in modo tale che lavori a flessione nella direzione dell'asse forte qual è l'asse forte di una colonna è l'asse x di me ovolo cioè funziona bene dal lato in cui ha il momento di inerzia elevato funziona peggio dal lato in cui non ha il momento di inerzia elevato quindi se questa è la mia struttura di prima e ad esempio qui ho scelto di avere un telaio per esempio il cernirato a terra questo lato qui deve trasmettere taglio un momento se dall'altra parte io ho dei ritti pendolari la mia sezione ha bisogno di un momento di inerzia elevato nella direzione in cui è soggetto presso sessione quindi all'inizio dell'esercizio quando sto mettendo le trami secondarie e non alla fine quando faccio le unioni controllo di poter girare la colonna dal lato che mi serve quindi come mi aspetto girare la colonna in questa situazione la posso girare così e così secondo voi è questa qua è questa qua tanto c'è un gruppo di voi che so che deve fare l'esame adesso quindi ne dovreste sapere allora se il telaio è questo io mi aspetto la colonna in questo modo è chiaro perché perché l'asse di erzia forte è la rotazione intorno a questo e quindi questo telaio porta meglio le sollecitazioni di flessenti allora quindi questo perché è collegato con l'unione è collegato con l'unione perché quindi quando io avrò un'unione di un telaio mi aspetto la trave principale collegata all'animo o all'ala all'ala ok sarà collegata qua questa è la trave principale e questo è l'unione animale quindi in caso di telare io mi aspetto di avere questa situazione allora colonna dobbiamo collegarla la trave abbiamo deciso di provare a utilizzare il giusto giangiato dove stanno in questo modo le fibre tese sopra o sotto so che è 1 e 20 però provate fate pinta di partecipare allora le fibre tese avremo un diagramma di momenti di questo tipo trasmesso così stava 0 quindi avremo le fibre tese superiori quindi io mi aspetto i bulloni a trazione sopra quindi più bulloni sopra quindi avrò una piastra a cui è collegata la mia trave principale ok e la mia piastra tramite una copia dai bulloni vi porterà questo più diretto un momento quindi avrò i bulloni qua e i bulloni qua almeno perché se non ho una copia non posso avere il momento poi so che i bulloni che hanno maggiore soliditazione sono quelli a canzione e quelli a comprensione saranno forse che alla chiusa diciamo quindi metterò più bulloni nella zona che già è a canzione e quindi si aspetta un altro qua ok quindi questa unione cosa dovrà portare nei vari elementi dovrà portare taglio e momento se noi la vediamo di fronte la vediamo all'astra avremo una situazione di questo tipo una coppia qua sopra una coppia sotto l'ala e una coppia qua sotto ok quindi avremo il taglio che si dividerà in modo uguale tra questi sei bulloni perché al taglio non importa se stanno su o stanno sotto taglio di divide in modo uguale quindi sono sei bulloni che portano al spazio di taglio e la reazione che sarà a questo momento così che sarà ripartito con questa coppia la cui distanza è la distanza tra gli ali e quindi avremo questo momento che andrà a solicitare l'astrazione questi bulloni in modo semplificato per fare un calcolo di massima semplificato quindi se vogliamo verificare l'unione ipotizziamo di averla disegnata in qualche modo abbiamo messo dimensioni geometriche a occhio quello che sia generalmente tanto questo obbligato la larghezza e la larghezza che abbiamo nella trave dobbiamo andare qua sopra un po' sotto non è che un esame in questo caso che si chiede l'ottimizzazione la cosa importante è prendo il taglio e lo divido tra gli elementi e faccio le mie 4 elementi dopodiché prendo lo sforzo normale e lo pongo per calcolare al momento fratto h quindi questa a è uguale a m fratto h piccolo quindi lo taglio il mio momento di esercitare m il mio punto m questo h si dividerà tra 4 bulloni che sono in terza trazione e quindi su quei 4 bulloni io farò la verifica per presenza congiunta di danni di trazione questo è quello che bisogna sapere non mi interessa non mi interessa l'importante è che voi avete capito che è un telaglio e quindi il comunione è proprio l'aglio distribuisco i bulloni in modo che abbiano senso perché qualcuno impara la memoria di segno e arriva con questo con il bullone sotto e non mi hanno minima idea di perché dovremmo stare sopra questi bulloni sono progetti a taglio di attrazione e questi sono concerti sull'attrazione stop le verifiche sono numeri ce la potremmo gravare anche quella di destra perché le aggiunzioni sull'anima portano il taglio e sull'attrazione portano il mezzo quindi funziona in questo identico modo questa è l'unico metodo di uscire i genitori quando io ho una struttura di reti mondiali ho questa tipologia di unione ok ora guardate un attimo qual è la situazione per queste due domanda tra un bocchetto entrambe coesistono sempre allora impariamo un attimo a guardare i segni questo non immagino che sia un problemamento ragazzi abbassate la voce veramente mancano 5 minuti 7 minuti che la potete fare allora io immagino che questa non immagino questa è la colonna immagino che questa sia la taglia principale perché immagino che sia la taglia principale allora quando progettiamo arretti pendolari se la colonna è girata in questo modo è girata nell'altro a livello di numeri ci interessa poco perché se tornate con la mente alla memoria parlo magari per chi già sta studiando l'esame nelle formule noterete che c'è il raggio di inazia minimo o il momento di inazia minimo tra colonne e protezione quindi la verifica comunque come è girata è girata la colonna voi la fate con il valore minimo quindi a livello di verifica numerica a noi non ci interessa come è girata la colonna nel caso dei diritti pendolari perché non c'è trasmissione di momento e le verifiche le facciamo già con le caratteristiche iniziali minimi per cosa ci interessa costruttivamente questi elementi li dovete collegare cioè devi comunicare l'uno con l'altro quindi è un errore brutto grossolano progettare una colonna una traga una traga una traga una traga una traga principale la colonna controllate sempre che effettivamente i pezzi si possono vedere da di loro dato che la traga principale è più grande nei ritti pendolari io mi aspetto la traga principale di quella che è la dama allora la traga più grande qui abbiamo il terzo giusto e quindi è più piccolo quindi generalmente io mi aspetto la traga principale si è attaccata all'ala e la traga secondaria questa è una vista dall'alto e la traga secondaria si è attaccata all'anima ok? ora questa è l'informazione voi la potete utilizzare anche per il predimensionamento delle colonne perché per il predimensionamento delle colonne visto che i vostri tipici sono bassi non avete mai grandi solicitazioni su queste colonne quindi spesso il vincolo principale è dovuto all'aggiunità degli elementi quindi un primo valore di predimensionamento può essere il più piccolo perché l'onco riesco a collegare la traga perché se io ho un live 500 che ha 200 di lato io devo dire almeno una colonna a 200 non metto le ali che escono e una colonna che ha 200 porta già un signor carico quindi considerate sempre la fattibilità dell'unione tra le tecnologie di predimensionamento perché è rapida quindi una volta che avete fatto un po' di esercizi voi sapete già un'ha 200 più o meno che sforzo normale di porta avete quindi edificio avete da trave riuscite a dimensionare molto in fredda e dimostrate che è il cattivo che funziona quindi qui noi abbiamo il posterimento ovviamente trasmettiamo l'anima come poi è collegata all'anima per una questione all'ala per una questione logica cioè non posso collegare all'anima quindi il trasmissione di taglio anche se è collegato all'ala per una questione costruttiva qui abbiamo anima e anima quindi stiamo trasmettendo all'anima della broanna tramite l'anima della trave secondaria è proprio una cerniera purità nella realtà questi due tipi di unione coesisteranno quindi avrò la trave secondaria la trave principale che arriva qui e la trave secondaria che entra qua cioè in questo punto se noi immaginiamo la colonna messa in questo modo se io guardo dall'alto avrò la mia colonna vista dall'alto ok poi mi aspetto una trave secondaria da arriva da che mi ha sotto ok della trave secondaria io che vedo solo sopra quindi mi metto tratteggiata l'anima ok e poi io avrò qua una trave secondaria che arriva sul testangolo che arriva qui e mettiamo tratteggiata l'anima questo disegno vi spiega perché quando calcoliamo la trave principale ignoriamo le reazioni ai lati noi diciamo questa frase la trave secondaria e la trave principale considero le reazioni delle trave secondarie al centro non considero quelle più vincoli perché che qua arriva la trave la trave secondaria è questa quella del vincolo scarica sulla colonna non si tocca la trave non si tocca che la trave questa è la mutazione questo è esattamente quello che vi ho fatto vedere il segnato un po' meglio quindi l'anima di momento questo lo trovate anche questo tutto quanto dimensionato per provare a fare un calcolo questo è lo schema del procedimento ma non ci dentro del dettaglio ho provato a fare una volta così la cosa importante anche per questo non perdere i mille risurazioni di calcolo capite come funziona ma non mi interessa non volvole vi faccio vedere l'ultima cosa quando facciamo il giunto gangiato vi faccio muovere una cosa quando facciamo il giunto gangiato noi ci portiamo questa trave con la viastra con la gara ok quindi ci sarà da verificare anche la salvatura tra la viastra e la gara ok l'aula ha fatto fare la cucina che è questa disegnata qua questa striscia nera ragionando come abbiamo ragionato prima a cosa sarà soggetta questa salvatura io avrò una salvatura il penne affittato in un momento di questo modo quindi avrò dei cordoni se li battiamo colpiamo delle slide avrò questi cordoni sui cordoni che avranno una pausa parallela questi cordoni che mi portano il momento signoranno una sigla ortogonale cosciente e l'entrante e poi che vedranno una situazione con la questione anzi sui cordoni d'anima però concitualmente i cordoni d'anima portano un sigla ortogonale con il penne l'anima però poi fanno la parallela allora su coleste non riusciamo ad entrare nel dettaglio ma il concetto chiave è che quello che abbiamo visto si abita in tutte le diversioni cioè che significa che se io vi faccio vedere l'unione colonna colonna e giro la slide è esattamente identica all'unione tra potere che significa che una volta che ho definito le caratteristiche di certificazione funzionano tutta allo stesso modo e questa sarà la migliore che mi porta al sforzo manuale nel momento al sforzo manuale in momento perché poi è proprio giunto proprio giurdi poi la consumazione di un uovo di vicini riuscirà a trasmettere tutto al sforzo normale la maglipiniera quindi funziona allo stesso identico modo questa ce l'avete comunque tutta ascolta ultima cosa la fondazione solamente per su allora abbiamo due comportamenti diversi ovviamente se abbiamo una cerniera o un incastro alla base ok questi sono i ritorni ideali non verranno a parte di una realtà però per farvi ragionare tutte quante le colonne avranno la base una castra quindi serve per impartire le sollecitazioni in modo di distribuire un po' puntuale e quindi lo avrà un spessore tale che ci possa restare le sollecitazioni poi a seconda della sollecitazione che avrò io avrò solamente questa cassa che mi viene portato lo sforzo normale non mi viene per durare avrò un momento che tenderà a sfidare i lavori se ho un incastro questa la vediamo come cerniera perché i bulloni sono vicini e quindi una direzione potrebbe ruotare un ideale quella con tanti ruggimenti porta bene il momento che lo chiamano un incastro ma a prescindere da quello la cosa fondamentale non mi interessa che sappiate dimensionare l'unione con la fondazione che si è andata a dire i calci non so che comunque c'è una pubblica non è quella cosa che ho fatto se voi fate una progetto di un'unione a castro a terra io pretendo che voi sappiate che devono essere verificate a sfidamento qui da fuori è importante crederlo perché se voi lo deve progettare tutto bene se voi progettate un'unione a terra soggetta a momento e non vi verificate attrazione di la fondi l'unione non funziona punto c'è la grossa differenza dove vede poi avremo unione che a seconda di un stato sforzo normale cade dentro il traccio medio non cade dentro il traccio medio questo lo dovete trovare la materia tranquillamente la cosa fondamentale è che la frizione non è tutta compressa la riflessione nel parco di età e quindi i nostri piraconti vanno ridurare la riflessione questa è la cosa che non fare questo non è altro quindi la differenza è unione solo per carico assiale io voglio mettere questa piastra in questo di cercare quindi la piastra in modo che si infletta lo parco basta unione colonna linto a incastro io dovrò andare a calcolare la risultante delle confessioni delle trazioni che mi dai un libro e dovrò andare a calcolare sia la piastra parzializzata la parte della trazione e la parte della confessione e sia il di di a che non si scrivono poi tutta quanta la tutta di interessa allo stesso identico modo funzionano i controventi e i controventi se questo è il mio sforzo di fazione i miei controventi non hanno tanto voi vedete la diversa dei controventi che se avete questo profilo che è AL voi avete l'asse dell'asse baricentrica dell'evento AL avrà un baricentro qua quindi l'asse baricentrico dell'evento e l'asse dell'evento dell'evento non c'entra perché il profilo è piccolo quindi non c'entra fisicamente non c'entra e quindi avremo indilassamenti tra l'asse dell'abbononatura e l'asse delle sollecitazioni l'asse dell'abbononatura è chiamato anche l'asse di sostegno se mi vuole dare il numero il nome e quindi andremo a fare delle verifiche ma quindi andremo a considerare come fatto con le altre unioni il documento fettizio e l'obbligo all'assassamento le verifiche sono sempre le stesse la unioni a taglio come tutte le altre quindi non pensate di trovare tutte le unioni contro la unioni è uguale è importante se avete capito l'assassamento che abbiamo fatto fate due unioni che sapete valiste va bene vi ringrazio e grazie grazie grazie